buongiorno buongiorno sta per cominciare sono collegati da remoto diversi consiglieri tra cui il sindaco per motivi prudenziali senti giustificati la consigliera piccaluga e la consigliera d'estasio segretario prego per l'appello allora procediamo con l'appello mastella clemente marbieri italo presente a buon antonio presente elipsis lucas e l'ongis raffaele assente lorenzo giovanni presente mercurio adele presente l'estasio rossa parise francesco giuseppe fioretti floriana presente francese mara presente dolgione gerardo presente greco alboino presente guerra rosario presente gli anelli loredana presente lauro vincenzo assente martinetti alfredo presente megna giovanna mi chiamiamo misceli angelo presente mignone maria carmella presente moretti angelo paladino maria carmella presente alfredo presente a rente renato presente e rifano luigi diego presente petrone luisa presente i cariello antonio piccaluga luigia carinzi luigi presente scuera vincenzo comacello analisa presente barricchio ma reali tizia presente e danone giovanni magia sono i carabinze minuiti GiorgioN mi chiamato strema utile 6 assenti la seduta è valida passiamo al primo punto all'ordine del giorno approvazione documento unico di programmazione 2022-2024 relativi allegati prego l'assessore Serluca di rossare deliberato grazie signor presidente, signor sindaco, signori assessori, signori consiglieri oggi viene portato in consiglio comunale l'approvazione di tutto il progetto di bilancio con le delibere che lo accompagnano mi preme innanzitutto ringraziare prima di cominciare la disamina di questi documenti il dirigente alle finanze il dottor Raffaele Ambrosio per il lavoro che svolge quotidianamente ma anche i dipendenti del settore gestione economica per il lavoro svolto nonché il collegio dei revisori per la collaborazione e la disponibilità nonché la presidente della commissione bilancio analisa domicile e tutti i componenti della commissione stessa c'è di qualche giorno fa la notizia che l'approvazione del bilancio di previsione è stata ulteriormente prorogata al 31 luglio dopo ovviamente già le proroghe concesse l'ultima era al 30 giugno questo è il segno di che quest'anno risulta notevolmente difficoltoso per gli enti locali chiudere i bilanci a parte per le elezioni nelle amministrazioni che si sono avute ultimamente ma anche per le difficoltà che stiamo vivendo tutti sia come cittadini, sia come famiglie e anche come amministrazioni locali il lungo e difficile periodo della pandemia da cui pensavamo di stare uscendo piano piano e che invece ancora ci attanaglia purtroppo e la guerra in Ucraina da ultimo di cui tutti sentiamo il preso oltre che il morale psicologico per una guerra che appunto riteniamo cruente e spietata per quelle popolazioni anche dal punto di vista economico per i crescenti e continui aumenti dei prezzi dei beni e dei costi delle utenze dunque la crisi energetica e l'instabilità dei mercati finanziari conseguenti appunto agli eventi bellici in corso complicano un quadro già segnati da una crisi post-pandemica e aggiungono forti elementi di incertezza a scenari che sono già difficili da governare sono stati diffuso proprio il 27 giugno le previsioni fatte da Nomisna Energia che stima un aumento nel terzo trimestre di un ulteriore 27% delle utenze di gas ed energia elettrica questi aumenti come colpiranno le famiglie allo stesso modo purtroppo gravano anche sulle casse dell'ente comune ricordo in maniera anche superflua che il compito dell'ente locale è quello di garantire lo svolgimento dei servizi definiti indispensabili che vengono coperti dalle entrate corrente il nostro bilancio è un bilancio che si definisce tecnicamente rigido in quanto le spese obbligatorie quali gli stipendi del personale per assicurare i servizi le spese per gli organi istituzionali i contratti di bene e servizi in essere le spese per gli utenti rimborso dei prestiti e delle rate dei mutui con i relativi interessi i servizi cimiteriali in anagra per lo stato civile eccetera rappresentano comunque una percentuale molto alta delle nostre entrate correnti e andare a coprire gli ulteriori costi delle utenze che sono stati stimate in oltre un milione di euro significa per questa amministrazione ma per tutti gli enti locali davvero comprimere oltremodo tutte le spese dei servizi che già erano appunto basse dei servizi non indispensabili la prima delibera che si propone per l'approvazione è il documento unico di programmazione per il triennio 2224 il documento ricarca formato da due parti come avete appunto potuto vedere una parte strategica e una parte operativa la parte strategica ovviamente ricalca le linee programmatiche dell'amministrazione Mastella insediata ad ottobre 2021 ed è caratterizzata innanzitutto dalla programmazione dei fondi a lungo termine che si realizzeranno continuando i lavori di quanto già cominciato nella precedente consigliatura rispetto ai progetti finanziati con i fondi del Bando Periferie ma anche e soprattutto i fondi che arriveranno con il nuovo strumento che il piano nazionale di riprese e resilienza il PNRR che saranno attribuiti per i progetti che stiamo presentando e in parte già attribuiti a questo ente nel primo semestre dell'anno 2022 il DUP 2022-2024 proprio per la sua caratteristica di essere un documento unico di programmazione include tutti gli altri documenti che sono ovviamente a corredo e a supporto delle previsioni di bilancio che vedremo nella prossima delibera il piano triennale delle opere pubbliche 22-24 approvato con delibera di giunta comunale 62 del 19 aprile 2022 il fabbisogno del personale 22-24 approvato con delibera di giunta comunale 124 del 10 giugno 2022 il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con delibera di giunta 105 del 19 maggio 2022 il piano biennale degli acquisti approvato con delibera di giunta comunale numero 62 del 19-4-2022 la delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie approvato con delibera di giunta comunale 115 del 6 giugno 2022 in coerenza con quanto previsto appunto nel documento unico di programmazione è stato predisposto il bilancio di previsione di cui parleremo nella prossima delibera in cui sono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio del triennio attraverso il quale è definita la distribuzione delle risorse tra i programmi e le attività che l'amministrazione intende realizzare si chiede dunque a questo consiglio di approvare la delibera del documento unico di programmazione con tutti i suoi legati grazie grazie assessora segretario chiedo scusa sono Giovanna Megna io prima non riuscivo a risponderle adesso la rete è migliorata quindi se cortesemente vuol registrare la mia presenza la ringrazio la mettiamo presente grazie ci sono interventi un chiarimento soltanto perché non so se la richiesta la devo fare adesso o dopo quindi io chiedo all'assessore alla cortesia riguarda il documento unico con riferimento agli immobili da alienare volevo capire gli immobili da alienare sono comprensivi degli immobili che sono stati dati in garanzia all'oslo cioè in quegli immobili da alienare in quella delibera di giunta in quel documento sono comprensivi anche di questi immobili da alienare è così quindi vengono riportati in modo separato allora gli immobili da alienare sono suddivisi in quelli da valorizzare che sono ovviamente del comune quelli da alienare ci sono quelli che sono stati destinati all'oslo e che fanno riferimento al bilancio stabilmente riequilibrato che abbiamo approvato nel 2017 anzi a gennaio 2018 se non ricordo male e quelli invece che sono di pertinenza dell'oslo quindi la ripartizione è comunque netta nel senso che l'oslo deve sapere quali sono i beni il valore ovviamente di questi beni su cui fare riferimento se questa è la domanda in effetti questa è la domanda che anticipa anche quella che poi voleva essere una mia interrogazione che è inutile fare visto che oggi ne approfitto per avere i chiarimenti dovuti quindi per intenderci c'è una volontà politica dell'amministrazione di alienare i beni dati in garanzia all'oslo e poi ovviamente rimettere all'oslo il ricavato questo lo dice la legge non è che lo diciamo noi in effetti la legge dice altro perché il 2L da 250,9 rimette direttamente all'oslo la potestà non solo di vendere gli immobili e di avere il ricavato poi c'è una circolare ministeriale che in qualche modo dà la possibilità al comune di fare questa procedura salvo poi rimettere i soldi all'oslo quindi la mia domanda è molto semplice la volontà politica questa è l'oggetto dell'interrogazione che non farò non faccio è anche inutile fare se possiamo darle le spiegazioni siamo qua no proprio per questo ma non è infatti non è Maria Carmela è una polemica è proprio un chiarimento per me siamo qua per e per capire se appunto sarà il comune a procedere alla vendita dei beni di proprietà in garanzia all'oslo salvo poi rimettere il ricavato all'oslo oppure invece attendere che l'oslo faccia l'intera procedura questa è la domanda semplicissima avevo se posso presidente già risposto diciamo anche in maniera in commissione diciamo a questa domanda ma rendiamo noto a tutto a tutti il consiglio la procedura ovviamente anche i rapporti con l'oslo sono appunto spesso legati anche da diciamo accordi informali che si prendono nel senso che appunto è delegata all'oslo la vendita perché comunque parliamo di un organismo straordinario di liquidazione che appunto deve liquidare per poter avere le somme necessarie a partire dal 2017 il 2017 abbiamo fatto le vendite e abbiamo trasferito all'oslo determinate somme successivamente con il presidente precedente avevamo convenuto che fosse l'oslo stesso a fare i bandi di vendita e poter poi diciamo nella loro autonomia a settembre dell'anno scorso il ministero ci ha inviato una nota dove ci ha specificato che invece le procedure sono a carico dell'ente e ovviamente il ricavato ovviamente attraverso sempre i bandi pubblici ci mancherebbe altro e il ricavato deve essere trasferito all'oslo quindi c'è stata una nuova comunicazione da parte della una nuova intesa da parte del ministero dell'interno un chiarimento diciamo così rispetto a questa situazione con il presidente Bruschi che diciamo sopraggiunto al presidente Ricciardi precedente abbiamo convenuto che questa dovesse essere la procedura il dirigente al patrimonio sicuramente avrà preso contatti con il presidente per stabilire qual è la linea che vorranno seguire di concetto ovviamente con l'oslo e ci mancherebbe altro su questo grazie giusto chiudo il capitolo per intenderci sarà il comune che si occuperà quindi della vendita di questi immobili ma da quello che appendo allo Stato ancora non è stata avviata alcuna procedura di vendita è così bisogna comunque che l'ente aspetti la procedura e l'approvazione del bilancio e con oggi che noi acclariamo la volontà dell'ente quindi con l'approvazione in consiglio di quello che dobbiamo effettivamente poi vendere quindi come sa bene noi lavoriamo quando il bilancio non c'è in esercizio provvisorio sono vietate determinate operazioni per cui con oggi abbiamo il documento che ci attesta che dà l'ente ovviamente l'autorizzazione il bilancio e il DUP sono documenti autorizzatori per cui autorizziamo in questo modo l'ente e appunto l'ufficio patrimonio a procedere ripeto nella loro autonomia il dirigente prenderà contatti con l'OSL per procedere grazie grazie assessore altri interventi prego presidente grazie in realtà volevo semplicemente fare una proposta se ovviamente gli altri consiglieri sono d'accordo visto che i due punti sono strettamente collegati io propongo di fare un'unica discussione in modo da evitare duplicazioni di interventi e poi ovviamente votazioni separate se ovviamente c'è la volontà di tutti possiamo passare alla votazione chiedo scusa chiedo scusa presidente prego sì non so se si è prenotato qualcun altro perché la partecipazione da remoto è alquanto scomoda quindi non vorrei aver tolto la parola a qualcuno ok allora se è possibile un chiarimento all'assessora rispetto alla missione ambiente perché noi vediamo per l'anno 2022 una situazione sostanzialmente piatta e diciamo una posta abbastanza risicata mentre nel 2023 c'è un balzo enorme praticamente si passa da circa 19 mila euro 19 milioni di euro a quasi 60 milioni di euro da un anno all'altro poiché è un salto molto molto rilevante tra l'altro su una missione fortemente critica non sono riuscita nelle commissioni precedenti a formulare diciamo questo chiarimento e quindi lo faccio direttamente oggi non so se può rispondere l'assessora o se è presente l'assessore Rosa visto che è una cosa specifica del suo assessorato grazie prego assessora sì diciamo non ricordo in maniera dettagliata i numeri ma sicuramente nella missione ambiente sono inseriti le somme che riguardano proprio strettamente i rifiuti e quindi il contratto di servizio con l'Asia più tutte le somme che riguardano lo smaltimento dei rifiuti che noi andiamo appunto a sostenere presso i vari i vari stir dove noi appunto andiamo a immaginare non immaginare dove abbiamo i contratti per sversare i nostri rifiuti quindi a Tufino e a Sapna rientrano in questa missione anche ovviamente le spese che l'ufficio ambiente sostiene per la gestione appunto di tutti quelli che sono i costi addebitati ovviamente al comune quali il verde oppure le bonifiche a cui siamo ovviamente obbligati nello specifico non ricordo il numero ma sicuramente quest'anno abbiamo dovuto già ovviamente operando in dodicesimi operare dei tagli maggiori proprio per la previsione di diciamo queste utenze che ci hanno costretto a ridurre gli stanziamenti per cui ritengo che sia sia stato diciamo uno di di quei capitoli che sono stati appunto c'è stata necessità di di ridurre fermo restando che ovviamente si tratta di una previsione che in corso d'anno come sa bene è possibile apportare delle variazioni di bilancio per cui se c'è necessità diciamo troveremo quelle che saranno i fondi qualora si dovesse procedere ad una maggiore necessità per cui detto in questo modo le posso rispondere quello che c'è e quello che abbiamo sostanzialmente fatto grazie guardi non lo so credo che ci sia qualcos'altro perché anche cioè il trend degli ultimi anni è sempre intorno ai 20 milioni all'improvviso nel 2023 diventa 60 milioni quindi è proprio qualcosa di enorme ho pensato che ci vendessimo il ponte leproso per per pulire Benevento non lo so però mi sembra un gap talmente rilevante che forse è collegato a qualche progetto non lo so è veramente tanto da 20 milioni degli anni scorsi 21 22 2023 60 milioni comunque vabbè magari lo approfondiremo direttamente con con l'assessorato all'ambiente con l'assessore di riferimento grazie grazie se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del primo punto all'ordine del giorno prego segretario grazie procediamo con la votazione Mastella Clemente si 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 Barbieri Italo si Capuano Antonio si De Lipsis Luca si De Longis Raffaele assente De Lorenzo Giovanni contrario De Mercurio Adele si De Stasio Rosa assente Farese Francesco Giuseppe favorevole Fioretti Floriana contraria Francese Mara si Giorgione Gerardo Giorgione c'è Greco Alboino favorevole Guerra Rosario favorevole Giannelli Loredana favorevole Lauro Vincenzo favorevole Martinetti Alfredo favorevole Megna Giovanna contraria Miceli Angelo contrario Giorgione Maria Carmela favorevole Moretti assente vero Balladino Marcello si Panunzio Umberto Panunzio parente Renato favorevole Perifano Luigi Diego no Petrone Luisa si Piccarello Antonio si Piccaluga Luigia assente Scarinzi Luigi si Sguera Vincenzo no Tomacello Annalisa favorevole Ricchio Maria Letizia no Zanone Giovanni favorevole ok uno due forse vediamo Presidente Sì perché era caduta la linea sono collegato è collegato Giorgione Giorgione prego se vuole votare Giorgione sì un attimo solo cominciamo con chi è in aula allora sì Panunzio Umberto sì ok e poi abbiamo detto Gerardo Giorgione sì se per cortesia può aprire anche il video va bene va bene va bene va bene allora 22 favorevoli dai allora 22 favorevoli 7 contratti il punto è approvato immediata eseguibilità votiamo l'immediata eseguibilità con alzata di mano o come sopra come sopra ok secondo punto all'ordine del giorno bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 approvazione ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 267-2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118-2011 contestuale presa ad atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 commi 1 e 2 del decreto 267-2000 prego assessore Sirluca grazie signor presidente in coerenza con quanto appunto delineato in linea generale nel documento unico di programmazione è stato predisposto il bilancio di previsione 22-24 in cui sono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nel triennio attraverso il quale è definita la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e l'attività che l'amministrazione intende realizzare i bilanci di previsione 22-24 degli enti locali avranno difficoltà come già anticipato nella relazione al documento unico di programmazione a perseguire gli equilibri di parte corrente in quanto si registrano maggiori spese per l'energia elettrica maggiori spese per il gas per i carburanti rincari delle materie prime e sostenibilità finanziaria delle clausole di revisione dei prezzi imposte dall'articolo 29 del DL4 2022 aumenti retributivi del personale dipendente connessi ai rinnovi contrattuali che interverranno durante l'anno accantonamenti integrali al 100% del fondo crediti di esigibilità minori trasferimenti reali destinati a coprire la spesa corrente indistintamente gli enti locali si trovano inoltre a fronteggiare uno sforzo organizzativo di portata colossale nel dover ampliare la propria capacità di spesa per rispondere alle sfide poste dal piano nazionale di ripresa e resilienza e nel dover costituire il monitoraggio controllo e auditing dei progetti avviati con il piano purtroppo in molti casi le tensioni di parte corrente non consentono di sostenere finanziariamente l'assunzione di tutto il personale necessario a cui affidare il pesante carico di lavoro richiede non solo competenze tecniche per i quali sono previsti anche utilizzi di risorse nell'ambito dei quadri economici del PNRR ma anche competenze amministrative e contabili nel bilancio sono previste entrate per un totale di 323 milioni di cui al titolo primo che sono appunto le entrate tributarie 48 milioni determinate da una previsione in linea con le aliquote e nel nostro caso sono previste per la condizione di dissesto la misura la misura massima consentita è in linea appunto con le previsioni degli altri anni i proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle regolarità sono previste in 1 milione e 376 e sono state ripartite secondo quanto previsto dalla normativa vigente il titolo secondo le entrate da trasferimenti correnti sono pari a 13 milioni e 8 il titolo terzo le entrate extra tributarie sono previste in 9 milioni e mezzo le entrate del titolo quarto le entrate in conto capitale che finanziano dunque la spesa di investimento a titolo secondo sono pari a 92 milioni e mezzo 8 milioni e 6 sono quelli previsti per il titolo quarto l'accensione dei prestiti che in realtà si riferisce ai mutui del mando periferia che anche per l'anno 2022 ovviamente contiamo di contrario con cassa depositi e prestiti così come previsto appunto dalla procedura ministeriale le entrate correnti servono per coprire le spese correnti che ammontano a 77 milioni e mezzo ripartite ovviamente secondo i mancro aggregati maggiori 14 milioni e mezzo più 879 mila euro per i redditi di lavoro dipendenti a carico dell'ente che sono pari al 20% delle nostre spese correnti 3 milioni 239 per gli interessi passivi che sono pari al 4% delle spese correnti 45 milioni e 6% per acquisto di beni e servizi da cui possiamo ricordare 15 milioni e 100% per la spesa per i rifiuti 3 milioni e 4% per il trasporto pubblico locale e oltre quasi 17 milioni per le spese per i diritti sociali politiche sociali e la famiglia proprio sui servizi sociali ovviamente come ogni anno cerchiamo di porre la maggiore attenzione proprio per dare interventi diretti alle famiglie in termini di contributi tra i quali sostegno al fitto alle bollette e voucher alimentari la quota di capitale di rimborso dei mutui scritta nel titolo sesso della spesa rimborso dei prestiti ammonta per l'anno 2022 a 10 milioni e 200% l'evoluzione nel corso del tempo del nostro indebitamento vede una riduzione progressiva partiamo infatti dal 2020 con un residuo debito di 95 milioni e 600% e stiamo nel 2022 a un residuo debito di 88 milioni e 4% un'altra voce rilevante imposta dalla normativa e che ovviamente restringe la capacità di spesa andando proprio a ridurre quelle che sono le spese correnti e l'accantonamento dei fondi che sono pari a oltre 6 milioni per il fondo credito di esigibilità ovviamente detta somma non potrà essere impegnata e concluirà nel risultato di amministrazione proprio come prudenza e a garanzia degli equilibri di bilancio oltre quest'anno ad accantonare un'ulteriore somma di 664 mila euro quale fondo garanzia debiti commerciali come stabilito dalla normativa e che viene proprio nel 2022 quest'anno ad essere inserito che ovviamente essendo proprio un fondo di garanzia va a tutela di quelle che sono le spese andando a contrarle diciamo a contribuire alla contrazione il fondo di riserva previsto dalla normativa è stato appostato sono stati appostati 467 mila euro che appunto rientra nella misura prevista dal 166 del Tuel nella proposta di bilancio è anche prevista la salvaguardia degli equilibri che l'articolo 193 fissa la scadenza al 31 luglio quindi siamo quasi arrivati dunque è un bilancio questo in cui sono rispettati gli equilibri è un bilancio in cui sono rispettate le prescrizioni ministeriali che ci sono state fatte nel momento in cui abbiamo appunto dichiarato il dissesto ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti chiedo dunque al consiglio di voler approvare la delibera del bilancio di previsione 22-24 e contestuale salvaguardia degli equilibri grazie grazie assessore Sluca chi chiede la parola per intervenire nessun intervento preghiarimenti facciamo parlare prima il contiere sguera allora sì sì ma soltanto pochissime precisazioni se nella redazione del bilancio di previsione sono state come dire in qualche modo osservate le linee guida che sono state indicate dalla Corte dei Conti sapete che ci sono state una serie di circolari se non dei veri e propri decreti emanati o di liberi chiedo scusa emanati dalla sezione dell'autonomia della Corte dei Conti proprio con riferimento a quello che diceva lei assessore si è tenuto conto del caro energia della pandemia quelle che sono state le misure del governo e soprattutto con riferimento alle possibili minore entrate dovute a chi ancora si trova in difficoltà nei pagamenti per quanto riguarda anche le entrate tributarie che sono quelle che più strettamente ci interessano e ci competono quindi volevo sapere se nella redazione di questo bilancio sono state osservate queste linee indicate dalla delibera della Corte dei Conti faccio direttamente la seconda domanda così poi mi farà un'unica risposta siccome io ho difficoltà ve lo dico sinceramente a guardare i bilanci c'è una ritrosia su una vera e propria idiosincrasia nei confronti anche dei commercialisti che non danno mai buone notizie quindi appena apre un bilancio mi dirò male però detto questo volevo comprendere eh no tutti no tranne Faresse quando chiamo a Faresse siamo contenti diciamo così però non tutti i commercialisti danno buone notizie ma a parte gli scherzi eh volevo capire questo ehm ci sono delle previsioni di spesa per quanto riguarda le singole emissioni singoli capitoli e nello specifico per quanto concerne l'ambiente per quanto concerne soprattutto le spese che attengono al verde da quello che ho capito la previsione dovrebbe essere intorno al milione di euro cioè ho letto una parte novecento una parte un milione e due quindi poi mi sono confuso però bene o male quella è la previsione di spesa nello specifico le chiedo quali sono le somme assegnate alla alle politiche chiamiamole così ambientali e quindi per quanto concerne ancora più nel dettaglio le chiedo le spese previste per la villa comunale le spese previste per la cura che cosa? no diciamo esatto se mi puoi indicare esattamente dove vado a ricavare le voci destinate al di là al di là della previsione così come lei ha detto prima nella discussione generale che poi c'è una distribuzione di spese la previsione per la distribuzione delle spese quindi io immagino che già sia stata fatta una previsione di quelle che sono le somme effettivamente poi destinate a quella missione quindi al di là della previsione le chiedo le somme destinate al verde pubblico alla cura dei pini o tutta la vicenda dei pini e alla villa comunale quindi al settore ambiente qual è la somma che effettivamente viene destinata al di là di quella che è la previsione grazie prego assessore se ritieni di chiarire allora per quanto riguarda la prima domanda che riguarda appunto le entrate ovviamente abbiamo rispettato tutti i dettati normativi e tutto quello che è correlato a questo e a maggior ragione la Corte dei Conti che è sempre quella che ci spaventa tutti per cui siamo molto attenti le posso dire questo che avendo approvato anche il rendiconto da poco tempo nella previsione delle spese cerchiamo sempre di essere molto prudenti infatti il tasso di definizione che è quel tasso che ci dice rispetto alla previsione qual è l'accertamento quindi l'accertamento è ovviamente la fase dell'entrata in cui noi andiamo ad avere un titolo giuridico idoneo per poter emettere per poter procedere all'accertamento era quest'anno del 97% questo significa che il tasso di definizione rispetto alle previsioni o quello che si realizza con l'accertamento è sempre molto alto segno questo che appunto le previsioni dell'entrata sono sempre molto realistiche devono essere necessariamente molto realistiche per cui rispetto all'entrata le posso dire questo per quanto riguarda i capitoli specifici entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio dovremo approvare il PEG che è il piano esecutivo di gestione dove noi andiamo a ripartire le missioni e i programmi della spesa nei singoli capitoli per cui la missione che dovrà guardare è la missione 10 e nell'ambito della missione verranno ripartiti i capitoli dove ovviamente concordamente con il settore ambiente sono state appostate le somme che serviranno ma in questo momento non mi chieda quanto ci sta per la villa comunale perché ovviamente lo andremo a determinare nel momento in cui facciamo il PEG grazie assessora prego consigliera presidente chiedo scusa poiché stanno per chiamare la mia audienza posso fare un brevissimo intervento se la consigliera Fioretti è d'accordo volentieri prego consigliera da remoto ripeto è abbastanza complicato però molto sinteticamente sperando poi di poter votare altrimenti sarò assente perché c'è purtroppo questa coincidenza stamattina solo qualche osservazione che chiaramente non riguarda l'aspetto formale del bilancio che non è neppure messo in discussione piuttosto qualche considerazione di tipo diciamo politico di scelta che è stata fatta innanzitutto rispetto al bisogno del personale lo avevamo sottolineato anche in commissione siamo rimasti abbastanza stupiti di non vedere investimenti rispetto al sempre sottolineato ufficio del controllo analogo sulle partecipate non ci sono appostate delle persone ma troviamo invece un giornalista quindi avendo avuto magari un po' più di tempo avremmo proposto anche un emendamento rispetto a questo valutando ovviamente la fattibilità chiaramente siamo a luglio 2022 quindi più che un previsionale è quasi un consultivo quindi c'è stato poco margine l'osservazione generale che ci viene da fare è che un bilancio abbastanza piatto come diceva il sindaco anticipando diciamo l'esame di quello che è stato previsto per i prossimi anni un bilancio abbastanza lacrime sangue e quello che ci stupisce è anche l'incremento e la pressione fiscale di circa l'8-9% l'unico guizzo che io ho visto ma ripeto come diceva anche il consigliere Sguera la nostra visione è anche deficitaria perché non abbiamo tante competenze tecniche è questo guizzo questo balzo sull'ambiente sul 2023 che saremmo veramente curiosi di capire se effettivamente ci sarà perché avvertiamo l'urgenza abbiamo sentito tutti come cittadini la carenza drammatica di spesa sull'ambiente sulla cura del verde perché questa città è messa veramente male quindi sperando di poter votare annuncio il voto contrario del mio gruppo grazie grazie consigliera prego consigliera Fioretti grazie presidente saluto il sindaco gli assessori i colleghi consiglieri bene questo consiglio comunale oggi rappresenta un'importante occasione di riflessione politica su quelle che sono le strategie che verranno messe in campo da questa amministrazione in tema di pianificazione programmazione è un'importante occasione quindi per conoscere quella che è la visione strategica sottesa al bilancio di previsione che ci è stato presentato io sinceramente dico che da una lettura sommaria del documento unico di programmazione ho letto un bellissimo libro dei sogni di circa 400 pagine in cui la narrazione fiabbesca purtroppo contrasta con i numeri invece del bilancio di previsione il gruppo insomma è una riproposizione del programma di mandato che purtroppo stride fortemente con le azioni messe in campo da sei anni da questa amministrazione noi ci auguriamo che le bellissime idee vengano poi tradotte infatti e ci auguriamo insomma che questa amministrazione sappia davvero investire strategicamente sulla salvaguardia ambientale sulla riqualificazione urbana sulla città dei fiumi sulla salute pubblica eppure come dicevo questa narrazione fiabbesca poi cozza con quelli che sono i numeri che vengono presentati in un bilancio che io definirei di emergenza un bilancio che arriva dopo due anni di pandemia con una guerra ancora in corso un bilancio che dovrà fare anche i conti con le difficoltà economiche finanziarie alle quali andranno incontro in maniera sempre più gravosa le famiglie e le aziende della nostra città noi come forze di opposizione svolgiamo il nostro ruolo facciamo la nostra parte svolgiamo la nostra funzione di ungolo di stimolo individuando quelli che sono i punti di criticità e parto a proposito del bilancio dal parere dei revisori dei conti devo dire che insomma partendo dalla lettura del parere le criticità le inadempienze di questa amministrazione vengono ad essere puntualmente riproposte di anno in anno ora se si tratta di bilancio consuntivo si tratta di bilancio previsionale quello che leggiamo da parte dei revisori sono le continue le raccomandazioni sul monitoraggio del fondo contenzioso l'incremento della capacità di incasso delle entrate tributarie ed extra tributarie al fine di evitare la formazione di nuovi residui attivi il monitoraggio del fondo crediti di dubbia esegibilità però c'è una novità in questo parere la novità che emerge è relativa all'assunzione del personale nel piano del fabbisogno del personale è prevista l'assunzione di 13 unità 16 unità che dovranno essere assunte nel prossimo triennio di cui 4 dirigenti e i restanti sono distribuiti tra polizia municipale e personale amministrativo forse a qualcuno è sfuggito che questa amministrazione ha un braccio operativo che è rappresentato dalla categoria degli operai e proprio questa categoria è totalmente assente dal piano del fabbisogno del personale raccolgo le la ventele e diciamo le criticità che emergono quotidianamente in città e una cosa che viene sempre rappresentata è la mancanza di manutenzione stradale la mancanza di attenzione a diciamo a quelle che sono le attività relative all'edilizia presidenziale sono tutte questioni e criticità che emergono soprattutto da una carenza di operai e quindi il vero braccio operativo di questa amministrazione cioè la manovalanza idraulici manutentori che sono totalmente assenti e che comunque non vengono rappresentati in questo piano del fabbisogno del personale e a proposito delle assunzioni i revisori raccomandano ovviamente prima di procedere all'assunzione del nuovo personale di tener conto sia del parere espresso sul fabbisogno del personale e sia di chiedere preventivamente un'autorizzazione ministeriale così come previsto dalla normativa per i comuni in stato di distesto ora vengo al piano triennale delle opere pubbliche attualmente vediamo la riproposizione di opere che vengono copiate e incollate da un bilancio da un anno ad un altro e forse a qualcuno è sfuggito nel copia e incolla di eliminare l'ex assessore all'urbanistica Raffaele Romano e ce lo troviamo nell'elenco degli assessori evidentemente nei copia e incolla è sfuggito questa eliminazione di quest'assessore e quindi insomma anche siete affezionati quindi avete due assessori all'urbanistica quindi nei vari copia e incolla ci sono due assessori all'urbanistica l'assessore chiuso e l'assessore romano giustamente due meglio di più comunque dicevo insomma che parliamo di opere di opere che comunque sono purtroppo una sommatoria di cantieri ma sono prive di una visione strategica della città diciamo che si tratta di progetti riesumati da cassetti impolverati degli uffici tecnici e che purtroppo risultano ad oggi obsoleti anche perché abbiamo una città totalmente cambiata negli ultimi dieci anni e purtroppo anche in peggio e poi ancora che dire tutti aspettiamo di vivere una città in una città che sia attrattiva che sia competitiva che sia inclusiva però affinché ciò avvenga necessario che questa città offri offra dei servizi di qualità ai suoi cittadini qualche mese fa ho letto lo studio pubblicato dal Sole 24 ore sulla qualità della vita uno studio che fotografa è una città che sicuramente non si presta ad essere un'oasi felice né per bambini né per gli anziani ecco a tal proposito sarebbe interessante capire quali sono gli interventi e le iniziative messe in campo da questa amministrazione a supporto della genitorialità iniziative volte ad offrire dei servizi per le persone della terza età questi sono diciamo degli indicatori significativi per garantire un miglioramento della qualità della vita nella città di Benevento io concludo il mio intervento dicendo che se c'è una parola che può descrivere questo bilancio è la parola incertezza incertezza per l'arrivo di fondi statali per sostenere gli aumenti di luce e gas incertezza sulla riscossione dei tributi e forse anche incertezza per il nostro futuro per queste motivazioni annuncio il voto contrario del Partito Democratico grazie grazie consigliera Fioretti nessun altro intervento prego consigliere Perifono signor Presidente del Consiglio Comunale signori assessori ieri il consigliere Guerra ci invitava a non utilizzare frasi fatte retoriche a proposito della discussione del bilancio in particolare lui diceva ma io sono vecchio di quest'ora quindi ho sentito varie volte riecheggiare questa espressione libro dei sogni e anche stamattina non poteva mancare non poteva mancare stamattina anche se io ho un'opinione leggermente diversa da quella della consigliera Fioretti la quale giustamente con uno sforzo di fantasia ha letto nel documento unico di programmazione e nel bilancio un libro dei sogni in realtà stamattina c'è stato poco da sognare perché l'assessore Serluca si è mantenuto fedele al suo ruolo di tecnico quindi la relazione è stata una relazione estremamente contenuta asciutta e diciamo i contenuti politici sono rimasti un po' a margine della considerazione introduttiva quindi detto questo qualche considerazione perché è ovvio che il bilancio è lo strumento che deve orientare la spesa in funzione degli obiettivi programmatici e amministrativi che si intendono raggiungere ora il punto è esattamente questo è stato detto il bilancio è piatto in realtà non si riesce ad individuare attraverso il documento di programmazione e le previsioni del bilancio quale sia l'intento effettivo che l'amministrazione intende perseguire dal punto di vista dello sviluppo del territorio nei prossimi anni io vi ricordo che Alternativa per Benevento in occasione della presentazione delle linee programmatiche dell'amministrazione Mastella espresse un voto di astensione un voto di astensione perché ritenemmo che in quelle linee programmatiche vi fossero elementi di interesse che potevano essere valorizzati nel proseguo dell'attività amministrativa quindi questo lo voglio ricordare perché alle volte quando si parla di retorica di schemi consueti di frasi fatti diceva l'opposizione dice sempre no non è vero sulle grandi questioni abbiamo sempre manifestato un interesse quanto meno a confrontarci poi che non si siano create le occasioni per questo confronto è un altro paio di maniche ognuno avrà le sue responsabilità non è questa la sede per approfondire però su quella relazione programmatica noi sospendemmo il giudizio nel senso che dicemmo ma ci sono delle cose interessanti dobbiamo vedere come si sviluppano secondo il nostro modo forse desueto forse arcaico forse superato di pensare è chiaro che una relazione programmatica si invera attraverso la definizione di strumenti che sono strumenti di programmazione e di pianificazione e in questi mesi noi per la verità questo ci saremmo aspettati che vi fosse stata una decisa accelerazione per costruire la cassetta degli attrezzi cioè gli strumenti operativi per dare conseguenzialità alle opzioni contenute nelle relazioni programma e io devo dire a distanza di nove mesi che questo invece non è accaduto ci aspettavamo che sul PNR che fosse un piano organico degli interventi la nostra divisione sulla impostazione e la gestione del PNR parte proprio da questa diversità di vedute l'amministrazione ha ritenuto di affidare tutto alla responsabilità di una cabina di regia come era evidente e come era prevedibile nel corso del tempo la cabina di regia ha perso smalto ha perso iniziativa a essere diciamo del tutto accantonata perché sono mesi che non abbiamo notizia delle riunioni della cabina di regia laddove noi avremmo preferito e abbiamo insistito in questa direzione affinché proprio sulle questioni del PNR ci fosse uno strumento organico che contenesse una visione di futuro della città che realizzasse cioè una politica degli investimenti fortemente orientata alla moltiplicazione delle ricadute produttive e questo non si è verificato ed è il primo elemento di forte complessità che noi riscontriamo nell'operato dell'aggiunta ma è un po' una debacle sul piano della programmazione strategica perché le stesse considerazioni che riguardano la mancanza di un piano organico degli interventi del PNR riguarda anche la vicenda del piano urbanistico comunale ora mi pare di capire che ci sia da questo punto di vista l'intenzione di accelerare però noi siamo a metà del guadro cioè questa stessa amministrazione negli anni precedenti ha deciso di mettere mano alla pianificazione urbanistica attraverso una variante Alpuc una variante Alpuc che è costata 75 mila euro perché tanto ha sborsato effettivamente il comune per compensare i tecnici che avevano avviato il lavoro di impostazione e di programmazione della variante dopodiché però il progetto della variante Alpuc è stato accantonato e si è annunciata la volontà di addivenire alla redazione di un nuovo piano urbanistico finalizzato all'obiettivo alto qualificato importante della dimensione della città ispirata ai concetti della biurbanistica della tutela dell'ambiente e dell'agenda 2030 però al momento noi siamo nella condizione per cui non abbiamo nessuna scelta strategica dal punto di vista della gestione del territorio altrettante a dirsi su strumenti di pianificazione di cui si sono perse le tracce manca il SIAD voi sapete che il SIAD è il piano che determina l'organizzazione sul territorio della grande distribuzione commerciale il problema della grande distribuzione commerciale è benemente sentito perché abbiamo una diciamo moltiplicazione di grandi centri commerciali ma non abbiamo lo strumento che deve regolamentare questi interventi anche qui io ho posto più volte una questione il comune di Benevento ha commissionato il piano a uno studio tecnico anche in questo caso sono stati pagati circa 20.000 euro gli elaborati sono stati consegnati e dal 2019 giacciono chiusi in quale cassetto io non saprei dire ma sicuramente giacciono chiusi in un cassetto anche qui non arrivano risposte ancorché il SIAD sia uno strumento fondamentale per poter dare un assetto razionale alle attività commerciali e sempre sul piano della programmazione potrei continuare ma anche il piano del verde ancorché sia previsto dalla legge ma anche il piano del traffico anche qua colleghi consiglieri amministratori di questa città noi continuiamo a pagare due tecnici per la redazione del piano e li paghiamo trimestralmente ma sto piano traffico l'ho detto una volta forse il piano traffico di Rio del Janeiro di San Paolo del Brasile cioè quando arriva a una soluzione allora questa mancanza di definizione di obiettivi strategici questa mancanza di definizione di strumenti di programmazione e di pianificazione dal nostro punto di vista spesa sulla diciamo efficacia della spesa e quindi delle previsioni di bilancio in quanto non riusciamo a cogliere il filo logico fra le premesse contenute nella relazione programmatica e il seguito dell'attività dell'amministrazione noi pensiamo che sia importante assumere alcune decisioni che possano imprimere una svolta netta e che possano aprire realmente una prospettiva di sviluppo ordinato della città di Benevento secondo noi lo dico in particolare al nostro assessore ai lavori pubblici ha fatto una riflessione per evitare che il PNRR diventi soltanto un programma straordinario di opere pubbliche e di interventi edilizi senza ricadute che possano essere nel medio e lungo periodo elementi di cambiamento della struttura economica della città ritorniamo su alcune proposte che abbiamo già fatto nella speranza che su queste si possa aprire un confronto manca nella programmazione del PNRR un progetto di rigenerazione urbana che riguarda l'ex tabacchificio di via 25 luglio ora tutti gli ex tabacchifici nel resto d'Italia sono oggetti di attenzione e di interventi di riqualificazione alcuni per finalità sociali altri come residenze per gli studenti altri ancora vengono convertiti in poli tecnologici noi abbiamo uno spazio di oltre 60.000 metri quadrati che potrebbe praticamente offrire risposta a molteplici esigenze a partire da quella principale e io considero il rilancio della proposta del turismo congressuale per la città di Benevento noi non abbiamo un centro congressuale che in questo momento ci consente di ospitare dei grandi eventi non sarebbe quella una sede ideale per risolvere il problema e lo spazio è talmente ampio che oltre al centro congressuale potremmo realizzare il museo del tabacco avremmo lo spazio per ospitare tutte le attività delle associazioni culturali anche per mettere un incubatore di imprese che consenta all'associazionismo culturale di farsi imprese ma sarebbe un intervento di rigenerazione urbana destinato a modificare non solo l'assetto di un quartiere ma addirittura le possibilità di sviluppo di un'intera città e per rimanere sul tema del turismo anche sulla questione dell'area del terminal è possibile avviare un confronto nella sede del consiglio comunale noi eravamo contro quel progetto l'abbiamo detto fin dall'inizio l'abbiamo detto in tutte le occasioni adesso quella prospettiva per fortuna della città è una prospettiva superata si potrebbe aprire un capitolo nuovo per capire qual è la migliore destinazione funzionale di quell'area e secondo noi la migliore destinazione funzionale di quell'area è un interporto al servizio del movimento turistico perché quella zona quell'area è immediatamente al ridosso del centro storico sarebbe il luogo ideale per accogliere i visitatori realizzando una serie di strutture di accoglienza che sono naturalmente punti informativi punti di orientamento botteghe artigiane e di prodotti del territorio oltre che naturalmente una durazione decente di servizi igienici quello che banalmente si dice il biglietto da visita di una città vuole fare una evoluzione in direzione dello sviluppo turistico perché dal nostro punto di vista bisogna lavorare sulle cose che abbiamo l'opzione turistica è legata a qualche cosa che abbiamo trovato che ci ha regalato una storia plurimillenaria della città di Benevento e che ci consente di avere un'aspirazione perché la ricchezza e la bellezza del nostro patrimonio monumentale oltre che del contesto urbano cittadino ci permettono di avere un'aspirazione in questo senso così come dobbiamo ottimizzare la vocazione della città sotto il profilo dell'alta formazione e degli studi universitari e di questi giorni ci sono due notizie in questi giorni la prima riguarda il finanziamento dell'ITS proposto dall'Istituto Palmieri è una cosa importante voi sapete che ho insistito molto sulla funzione strategica degli istituti tecnici superiori probabilmente ci siamo questa progettualità avanzata dall'Istituto Palmieri con la presenza dell'università e anche l'apporto di Confindustria ci consente di fare un passo avanti e il Comune è aderito certo io parlo del progetto al quale è aderito il Comune ci consente di fare un passo avanti dobbiamo investire moltissimo sugli istituti tecnici superiori perché sono la svolta dal punto di vista della formazione e del collegamento delle attività formative con il mercato del lavoro l'altra notizia meno bella per la verità è la bocciatura del progetto che riguarda il recupero del giardino storico di Villa dei Papi perché non restituiamo la Villa dei Papi alla funzione di polo dell'alta formazione che ha avuto nei decenni trascorsi perché non ipotizziamo che quella struttura possa essere destinata ad ospitare proprio l'istituto tecnico superiore in modo da recuperare una funzione che ha avuto ai tempi del Marsec ai tempi dell'ISFOL quando Villa dei Papi era nel suo piccolo un polo di formazione avanzata e anche di tecnologia avanzata così come ritorniamo non è mai troppo tardi diceva il maestro Manzi non è mai troppo tardi ritorniamo anche sulla questione dell'utilizzo della caserma di via Pepicelle perché è difficile immaginare che si possa realizzare in pieno centro città un centro direzionale senza parcheggi io apprezzo la generosità e la fantasia con cui è stato detto che ci sono 1500 stalli sapete tutti che non è così sapete tutti che il numero dei parcheggi è limitato alle possibilità che riguarda la sosta delle autovetture dei dipendenti e non si è mai visto un centro direzionale senza i parcheggi ritorniamo fin quando è possibile a immaginare una funzione diversa senza estremismi senza radicalismi non è detto che debbano essere solo e tutti uffici una parte di quell'area può essere destinata a uffici un'altra parte è naturalmente evocata ad ospitare un campus universitario che potrebbe finalmente realizzare l'idea di concentrare in uno spazio le residenze per gli studenti e le aule per la didattica ecco su queste questioni noi continueremo a svolgere la nostra parte e a esortare l'amministrazione ad avere attenzione rispetto alle prospettive strategiche in questo momento in questa operazione finanziaria noi non riusciamo a cogliere gli elementi di importanza strategica che pur erano contenuti nella relazione programmatica ma c'è un oiato c'è una soluzione di continuità c'è una incoerenza tra la ampiezza e come dire il valore della idea e la difficoltà poi di coniugare l'idea con strumenti di pianificazione e programmazione che sono gli unici che possono risolvere i problemi io seguirò il dibattito presidente mi riservo di formulare il mio indirizzo di voto in sede di dichiarazione di voto grazie mille consigliere martignetti ha chiesto di intervenire prego consigliere allora presidente assessori colleghi consiglieri ringrazio il presidente per la parola il mio intervento sarà abbastanza breve preannuncio ovviamente il voto favorevole del gruppo sinceramente ritengo che il documento che ci è stato presentato dall'assessore Serluca metta in evidenza diciamo la bontà del ragionamento sotteso e sicuramente anche la buona salute del bilancio dell'Endra che a me sembra sia si tratti di un documento redatto nei limiti consentiti e nei termini in cui era possibile affrontare un momento così difficile con le finanze che si hanno a disposizione e con un dissesto che esiste detto questo ovviamente per quanto riguarda tutto il resto è una visione diversa della città perché è una visione diversa della città cioè l'amministrazione che guida il comune ha una sua visione su una serie di cose l'opposizione ne ha altre ovviamente non mi permetto di criticarle o quello che sia però è una visione differente si sviluppa secondo discorsi differenti e porta delle conclusioni differenti voglio dire l'amministrazione comunale sta seguendo un suo percorso un suo percorso che abbraccia anche una serie di sinergie e collaborazioni non da ultimo anzi per prima proprio quella con l'università degli studi del Sannio che ha portato nel tempo e negli ultimi anni a determinare investimenti anche in zone della città che diversamente non sarebbero state valorizzate per cui dico allo Stato c'è un progetto sulla caserma Piepicelli probabilmente non è condiviso da tutti io questo non lo metto in discussione però va anche detto che l'università degli studi in altri quartieri della città ha fatto investimenti anche grandi rivalutandoli perché c'erano zone che non erano proprio come il Viale Atlantici oggi detto questo e lo chiudo il discorso su questa cosa perché ovviamente rispetto il punto di vista di tutti una brevissima parentesi sul nuovo PUC di cui andremo a discutere ovviamente il nuovo PUC avrà a disposizione tutto il tempo necessario che bisogna dedicare uno strumento di questo tipo faremo delle sedute di commissione non sappiamo se ne saranno 3, 4, 5 quelle che saranno necessarie affrontare con serenità questo dibattito è anche ovvio che non c'è nessuna contrapposizione con la variante precedente la variante era stata proposta in una fase finale dell'amministrazione in cui non era possibile portare avanti un discorso su un nuovo piano regolatore quello che si poteva fare era la variante nella misura in cui l'amministrazione precedente dei comunali ne vince supera la variante e decide di fare un piano urbanistico comunale nuovo questo piano urbanistico comunale come ho premesso sarà discusso e approfondito vedremo cosa ne uscirà se ci saranno apporti che potrà dare anche l'opposizione se ci saranno contributi che potranno uscire dalla commissione immagino di sì perché è un contesto in cui si discute con serenità di tutti i temi che sono stati portati all'interno e immagino che anche per quel che riguardi il FUC che è particolarmente importante avverrà è chiaro che il SIAD è quanto mai importante per una città come quella di Benevento non ricordo con esattezza qual è la data in cui il documento è stato consegnato per la verità ricordo di averlo visionato durante il breve periodo del mio assessorato però forse 2020 non 2019 non lo so ripeto non lo ricordo perché non ero io nel 2019 lì quello che valutai in quel momento è che proprio perché vi era una variante in corso e probabilmente sarebbe stata superata da un nuovo piano regolatore sarebbe stato il caso che anche il SIAD fosse conforme ai nuovi parametri del piano regolatore perché chiaramente sono due strumenti che devono per forza di cose camminare insieme perché si prevede lo sviluppo commerciale o di altro tipo di determinate aree della città che ovviamente non può prescindere da quello che è lo sviluppo urbanistico della città ma anche detto una cosa questa è una mia opinione personale voglio dire neanche io adoro la forte pervasività della grande distribuzione e quant'altro però è un momento storico che è fatto anche di queste realtà io quando mi sono trovato per il breve periodo del mio assessorato quello che verificavo era un interesse da parte di tutti dicevano noi siamo presenti dovunque in Campania non siamo presenti a Benevento per cui probabilmente se vi facciamo una richiesta di apertura a Benevento è perché a Caserta Avellino Salerno e a Napoli già siamo aperti se anche in questo caso la città vuole fare un discorso di estraniarsi da quello che è un cordone di sviluppo complessivo dell'economia condividendolo o meno io potrei anche non condividere però voglio dire il mondo dell'economia e dello sviluppo per forza di cose è fatto anche da grandi gruppi che vengono a investire e non è che ogni cosa può essere vista con diffidenza o perché io preferirei altro contrasto non è questo il ragionamento anche perché io immagino che la nostra città come tante altre quelle del Medio Appennino e roba varia dovrebbe avere un nucleo centrale dedicato a determinati discorsi per cui alle eccellenze a promuovere la cultura probabilmente le eccellenze no gastronomiche l'artigianato ne abbiamo tanto anche in provincia però deve avere un cordone che circonda la città che deve essere anche forte da un punto di vista di economia e di scala un po' più vasta è quello che io ho notato ogni volta che sono andato in altre realtà del centro del nord Italia ma anche del sud sinceramente e per cui ripeto il nostro voto sarà favorevole rispetto a questo e immagino mi auguro che dalle prossime sedute della commissione potremo affrontare con serenità il tema del piano urbanistico comunale ringrazio grazie consigliere prego consigliere Faresa grazie presidente contorno a tutti saluto i colleghi consiglieri gli assessori presenti in aula ci troviamo oggi a approvare il bilancio di previsione per l'anno 2022 purtroppo arriviamo all'inizio luce nel giugno inizio luglio da approvare il bilancio di previsione proprio nei giorni scorci come ha comunicato l'assessore la conferenza di regioni ha ulteriormente prorogato al 31 luglio l'approvazione del bilancio di previsione annunciando già che prevede un ulteriore prorogato questo perché diciamo le continue modifiche normative sulla contabilità pubblica e sui criteri per la relazione dei bilanci per gli enti locali mettono seriamente in difficoltà gli enti nella fase di programmazione quindi capiamo bene abbiamo tutti consapevolezza che diciamo arriviamo oggi a un bilancio che è di programmazione quando siamo già a metà anno quindi diciamo questi sarebbero criteri che sul piano normativo in generale andrebbero rivisti perché bisognerebbe mettere le amministrazioni in condizioni di fare effettivamente un bilancio di previsione e non rincorrere le continue modifiche per cercare di adeguarsi l'alternativa a questo sarebbe poi fare continue variazioni diciamo questa è una considerazione più di carattere generale sulla normativa nazionale che non aiuta non aiuta gli enti locali a letto di questo diciamo mi sia contentito rispetto alla grazia che il consigliere Sguera mi ha rivolto in riferimento alla categoria dei commercialisti rendere alcuni chiarimenti sulla questione delle spese per l'ambiente diciamo noi nella missione 9 io farò riferimento soltanto alle spese previste per l'acquisto di beni e servizi quindi senza tenere conto né delle spese per lavoro dipendente né per le spese né per quelle derivanti da trasferimenti diciamo che che non fanno parte dell'oggetto dei quesiti ma farò riferimento soltanto all'acquisto di beni e servizi sul programma 2 che è quello per la tutela la valorizzazione e il recupero ambientale c'è una previsione di spesa di 296 mila euro mentre sul programma 5 che riguarda le aree protette i parchi la protezione naturalistica e la forestazione c'è una previsione di spesa di 821 mila euro naturalmente poi all'interno di questi programmi di spesa saranno individuati i singoli capitoli di spesa con il PEG che viene redatto diciamo si passa dalla parte di indirizzo politico che esprimiamo noi in consiglio alla parte diciamo di gestione operativa quindi di attuazione amministrativa da parte dei settori con l'individuazione dei capitoli e l'approvazione del PEG che avverrà in giunta però diciamo nell'ambito di queste macro aree di riferimento che oggi in consiglio approviamo e che andiamo a definire quindi diciamo con degli stanziamenti che comunque ci sono sui settori che aveva evidenziato il consigliere Sguera sulle entrate diciamo a me piacerebbe soffermarmi su quello che abbiamo previsto sulle spese perché poi è quella secondo me l'attività di indirizzo politico che l'amministrazione va ad attuare con l'approvazione del bilancio del bilancio di previsione ebbene al netto del diciamo della missione nove che appunto quell'ambiente che è quella più corposa ma perché lì dentro c'è voglio dire la gestione del servizio di raccolta rifiuti e quindi ci sono i 15 milioni che spendiamo per tutto il ciclo dei rifiuti al netto di questo la missione su cui sono state stanziate maggiori risorse è quella delle politiche sociali dove sono stati individuati faccio sempre riferimento alle spese per acquisti di beni e servizi sono stati individuati su parte corrente 13 milioni di euro 13 milioni di euro di spesa quindi rispetto a quanto chiedeva la consigliera Fioretti che si interrogava su cosa vuole fare questa amministrazione per gli anziani per i minori per i soggetti maggiormente in difficoltà ebbene noi prevediamo un milione e 600 mila euro di spesa in favore dei servizi per l'infanzia un milione e 300 mila euro di spesa in favore dei disabili 8 milioni e 600 mila euro per i soggetti a rischio di esclusione sociale quindi è questa l'attenzione che si sostanzia nei numeri di questa amministrazione verso questo settore mi piace evidenziare anche altri due elementi che ritengo strategici su cui l'amministrazione ha voluto puntare nonostante il bilancio sia ingessato da delle spese rigide che ci lasciano pochi margini di scelta ma in questi pochi margini di scelta poi si sostanzia il criterio politico per individuare le priorità ebbene nonostante i margini risicati noi stanziamo quasi un milione di euro complessivamente fra valorizzazione turistica e valorizzazione culturale con 300 mila euro sullo sviluppo e la valorizzazione del turismo e con 700 mila euro sul settore cultura a riguardo appunto dello sviluppo e della promozione turistica diciamo essendo anche materia della commissione che ho l'onore di precedere mi piacerebbe fare qualche riflessione il consigliere Perifano ha parlato diciamo dell'assenza di programmazione da parte di questa amministrazione di un infopoint turistico di un terminal che sia rivolto ai bus turistici ebbene non è esattamente così perché questo il terminal per i bus turistici e l'infopoint turistico non sono nel libro dei sogni ma sono in un certo senso già realtà perché sono oggetto di un progetto PICS già approvato e diciamo che abbiamo anche discusso in commissione PICS con Luca De Lipsis e con il Rupo De Marco diciamo che si avvia che si avvia la gara a Santa Maria in cui sarà realizzato in una parte della piazza in una parte della piazza sarà realizzato un infopoint turistico e sarà realizzato il terminal per rivolto esclusivamente ai bus turistici con un'area attrezzata con servizi igienici con un'area attrezzata per il ristoro con un'area coperta che poi è quello che ci chiedevano molti operatori turistici con cui ci siamo confrontati i quali evidenziavano anche la carenza di un punto di approdo o di un punto di ritiro nella parte bassa di quello che è l'ipotetico giro turistico che si svolge nella città che parte dall'inizio del corso ed arriva fino al teatro romano quindi diciamo in tal senso c'è già un intervento che andiamo a realizzare anche sulla questione del turismo congressuale nel DUP nella sezione dell'assessorato al turismo che è proprio un esplicito riferimento alla volontà dell'amministrazione di puntare sul turismo congressuale naturalmente le progettualità diciamo e la possibilità di intercettare finanziamenti nell'ambito di una programmazione poi si palesano quando c'è la misura utile per poter intercettare il finanziamento ma questo diciamo fa comunque parte della nostra visione un altro aspetto che si lega sempre alla questione della promozione turistica e su cui mi sento di sentire rispetto all'osservazione della consigliera Megna sul fatto bisogno del personale io non ritengo che sia una spesa inutile o superflua quella di prevedere l'assunzione di un addetto alla comunicazione all'interno dell'ente io penso invece che sia una decisione assolutamente intelligente e che va in una visione del futuro che asseconda appunto questa vocazione turistica perché avere un ente che sia attrezzato sulla comunicazione in modo adeguato può fare la differenza io ho partecipato a in questi pochi mesi di amministrazione ho partecipato insieme all'assessore al turismo K a diverse fiere turistiche sia a Pestum alla Borsa Magleterana del Turismo archeologico così come alla Borsa del Turismo a Napoli ho avuto modo di confrontarmi giusto per fare un esempio con il Comune di Brescia che rientra diciamo nella rete UNESCO in cui siamo anche noi come Comune di Benevento e il Comune di Brescia ha un ufficio social media che si occupa solo ed esclusivamente dei social allora non dobbiamo demonizzare la spesa sulla comunicazione ma anzi forse dobbiamo pensare che questo sia l'inizio di un investimento più importante sulla comunicazione per un territorio come il nostro che del marketing territoriale ne deve fare una missione infine diciamo sulla questione PUC noi ci avviamo a diciamo alla definizione di un nuovo strumento urbanistico a mio parere correttamente poiché ritengo che le varianti servano più a correggere le storture di quanto esiste più che a dare una visione di programmazione corretta non credo che diciamo tutto il lavoro che è stato svolto precedentemente sarà cestinato o sarà buttato all'aria perché solo per fare un esempio nel ultimo incarico per la variante è stata realizzata la fotogrammetria del territorio comunale cosa che non era stata fatta ad esempio nel precedente PUC che è stato redatto su una fotogrammetria datata di diversi decenni quindi diciamo in quello poi se oggi si manifesta la nostra volontà politica di programmazione nella spesa e nella gestione dell'ente col PUC si manifesterà la volontà politica dell'amministrazione sulla programmazione urbanistica che abbraccerà tanti aspetti come ad esempio anche il piano traffico che sicuramente dovrà essere diciamo oggetto di visitazione e che sarà propria deutica all'approvazione del PUC quindi alla luce di tutti questi elementi io appreannuncio il voto favorevole al bilancio di previsione grazie grazie consigliere farese prego consigliere amignone allora il mio intervento ovviamente essendo sempre alla fine degli interventi degli altri miei colleghi di maggioranza non può altro che essere un intervento soltanto diciamo chiarificatore su alcuni aspetti e integrante su altre cose ovviamente noi tutti ringraziamo lo staff tecnico ringraziamo il sindaco ringraziamo l'assessore e per tutto il lavoro svolto e fatto non sono molto d'accordo sulla visione di questo di questo bilancio previsionale fatto dalla consigliera Fioretti sì è vero ci sono le prescrizioni ovviamente e noi non facciamo altro anche da questa parte di stimolare affinché queste osservazioni e suggerimenti vengano osservati e vengano considerati ma i numeri però sembrano un po' diversi e ovviamente come si vuole leggere così si legge un bilancio questo è un bilancio previsionale ancora di più io delle riduzioni sull'evasione tributaria le leggo sul recupero della Tari le leggo sul sull'imu le leggo e quindi voglio dire non è proprio questa la giusta rappresentazione da dare all'esterno ma ci sono i miglioramenti ci sono che i risori ci diano e diano a tutti noi anche delle necessarie precauzioni e osservazioni credo che sia il minimo che possano fare anche perché hanno proprio un atteggiamento precauzionale di osservazione di miglioramento e di stimolo della macchina burocratica comunale quindi non riesco a far a far emergere a far uscire a chi ci ascolta una visione così negativa di questa amministrazione finanziaria da un punto di vista finanziario che deve andare per il futuro siamo in una condizione veniamo fuori da una condizione veniamo fuori non sappiamo neanche se riusciamo ancora e se veniamo fuori da una condizione di pandemia di guerra di aumenti di prezzo di aumenti di costi e tutto e tutto il resto quello che si aspica e che ci aspichiamo tutto che i costi dell'amministrazione come pare possano continuare ad essere calmirati o almeno contenuti o almeno equilibrati con il precedente rimanere già in equilibrio sarebbe la cosa la cosa migliore come sembra che appare ritengo che per quanto riguarda tutta la progettualità dell'urbanistica la progettualità dei lavori pubblici ripetermi mi sembra eccessivo e superfluo considerato i colleghi quello che io invece volevo mettere un po' in evidenza è che la nostra città e il nostro programma come fatto anche un po' in economia per quello che riguarda diciamo la digitalizzazione e l'innovazione da questo punto di vista perché non c'è un assessorato c'è un piccolo capitolo di spesa però vi assicuro vi assicuro che si sta lavorando per cercare di migliorare il più possibile l'interazione con il cittadino per quanto riguarda il pagamento di ciò che si può fare con Pago.pia e tutte le i servizi al cittadino per quanto riguarda tutto ciò che può avvenire tramite tramite il sito poi non vi voglio anche ricordare che non dipende ovviamente da noi ma dal comune ma è a livello nazionale che nello stesso tempo quello che bisognerebbe anche vedere e organizzare una città più vivibile ma non solo vivibile perché c'è la strada perché queste ovviamente sono cose già dette e ridette ma la vivibilità di una città può essere data anche da una connessione internet che può consentire di lavorare qui invece di stare a Milano e quindi su questo si è lavorato e si sta spingendo tantissimo ad ampliare ancora di più il territorio e di farlo diventare più capillare gli interventi della fibra e cosa non facile perché poi il comune non ha una specifica competenza in quanto sono bandi nazionali e quindi si spinge soltanto affinché con pressione si possano ottenere queste cose quindi ritenendo ancora che il compito dell'amministrazione sicuramente non è un compito facile preannuncio il voto favorevole del nostro gruppo e spingo sempre in questi aspetti e in queste cose un po' che sembrano innovative ma che sono la base poi di una città di collaborare sempre più per dei progetti che possano essere che possano rendere sempre più vivibile la città da un punto di vista anche stimolante ma stimolante anche da un punto di vista come devo dire di insediamenti produttivi e non pensare sempre soltanto alla ristrutturazione urbanistica che è importante ma se non facciamo arrivare investitori io credo che non possiamo non andiamo da nessuna parte e anche il comune il comune con tutti i suoi servizi è un ente che può essere ovviamente stimolante e aggregante per quanto riguarda le attività che potrebbero eventualmente venire perché tra virgolette possiamo ancora considerarci sotto tanti punti di vista un'isola felice e quindi quando ci vengono comunque a visitare ci vengono le nostre zone industriali le nostre due aree industriali diventiamo anche da importanti e stimolanti e attrattivi quindi io preannuncio il voto favorevole e ringrazio grazie grazie per l'intervento consigliere Amignone chiesto la parola al consigliere De Lorenzo grazie Presidente saluto gli assessori presenti e consiglieri io in realtà intervengo semplicemente per chiedere tre chiarimenti un po' perché come diceva il consigliere Sguera prima non siamo probabilmente dei tecnici quindi qualche dubbio ce l'abbiamo e anche diciamo ne approfitto per rispondere a qualcosa che è stato affermato dalla consigliere Amignone e dal consigliere Farese allora primo chiarimento riguarda il recupero dell'evasione IMU in genere degli altri tributi io leggo nel parere del collegio dei revisori a questa voce che l'amministrazione ha previsto un recupero evasione IMU di pari a 1.583.000 euro all'anno nei prossimi tre anni oltre al recupero da evasione di altri tributi per un totale di 2.673.000 euro e dispari per ogni anno nei prossimi tre anni quindi per un totale di circa grosso modo 8 milioni di euro andando a leggere però il parere del collegio dei revisori del relativo al rendiconto 2021 vediamo che rispetto al recupero dell'evasione ci sono ci sono delle somme ben inferiori perché viene riportato come accertato circa 450.000 euro e come riscosso circa 254.000 euro quindi io diciamo da profano vedo come sia possibile che rispetto a un riscosso nell'anno 2021 di circa 254.000 euro si possa arrivare a una previsione di oltre 2 milioni e 6 per l'anno 2022 perché c'è l'inflazione può darsi quindi questa è la prima richiesta di chiarimento la seconda riguarda quello che diceva prima la consigliera Fioretti rispetto a quello che consiglieri prego di riparare se proprio dovete a bassa voce prego grazie grazie il secondo riguarda quello che aveva già accennato prima la consigliera Fioretti rispetto alla presenza nella nella relazione accompagnatoria di una voce riguardante l'ex assessore Raffaele Romano con tanto d'importo se non ricordo male potrei sbagliare di circa 3 milioni di euro volevo capire questa somma se era un refuso cioè nel senso che sarà proprio sbagliata l'indicazione o se riguarda qualche altra cosa in quel caso cosa riguarda ultima richiesta di chiarimento il fabbisogno di personale allora io non credo sia questo il momento di affrontare il discorso del piano triennale delle opere pubbliche anche perché in commissione lavori pubblici sono ormai un paio di mesi che stiamo cercando di affrontare il problema e devo dire non per colpa dell'assessore Pasquarello che qui è presente ma abbiamo avuto enormi problemi ad avere la documentazione le relazioni e i cronoprogrammi che anche perché ancora non sono stati forniti e mi riallaccio sul fabbisogno di personale perché proprio martedì tre giorni fa in commissione lavori pubblici e il presidente Scarinzi potrà confermarlo è venuto un ingegnere del settore che ci ha esposto preliminarmente l'argomento era le scuole ma preliminarmente ci ha esposto enormi difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro per l'assenza di personale in particolare il modo di personale amministrativo ora dalla lettura del fabbisogno di personale che si prevede di implementare in questo triennio io leggo che ci sono probabilmente delle figure diciamo che si prevede di assumere non così importanti come quelle che invece riguardano il settore lavori pubblici nel quale se non ricordo male è previsto solo l'assunzione di un amministrativo allora a questo punto quindi è diciamo come diceva il consigliere farese è importante sicuramente implementare anche l'ufficio dell'addetto stampa dei social media però visto che un addetto stampa già risulta esserci al comune volevo capire in base a quale criterio si è preferito inserire altre figure rispetto a quelle di un settore così importante come il settore lavori pubblici che magari andava diciamo implementato in quanto numero di dipendenti grazie grazie consiglieri prego consigliere Micheli saluto il presidente sindaco giunta i colleghi consiglieri la stampa presente in aula sarò sincero sul previsionale ero vietà siamo più portati a prendere atto di quelle che sono le appunto le previsioni in termini di entrare di spesa che l'amministrazione fa come diceva qualcuno ci vedremo al consuntivo perché ovviamente questo è il primo atto politico di questa amministrazione che è la stessa degli ultimi cinque anni ma ovviamente non è possibile addebitare a personaggi diversi in alcuni casi a differenza di altri dove c'è continuità diciamo delle mancanze che si sono poi riscontrate negli anni precedenti però una cosa non va detta visto che l'assessorale finanze è rimasto lo stesso per cui l'operazione è chiara intellegibile noi approviamo anche il piano delle rinazioni immobiliari per la prima volta c'è la distinzione tra i piani in carico all'osl e i piani e i beni e i beni in carico all'ente gli anni precedenti era un unicum e l'eubbistice li ho forse solo l'anno scorso è stata la distinzione per la verità il problema è di nuovo ci ritroviamo a dover sconfessare l'assessore in aula l'assessore in aula parla di una capacità di riscossione dell'ente del 97% diciamo di nuovo all'assessore deve fare sempre la media deve fare sempre la media tra le entrate dei vari titoli di bilancio non è che può giocare sempre e solo col primo titolo del bilancio perché ci sono le entrate di titoli diversi che non portano quella percentuale significa che nessuno vuole mettere in dubbio la capacità dell'ente di riscuotere le entrate tributarie però il bilancio non è formato solo da entrate tributarie per cui vale la pena considerare che ci sono altri titoli dove questa capacità dell'ente di attestarsi intorno al 90% non esiste e non esiste soprattutto su quelle delle entrate extratributarie e non esiste soprattutto sulla capacità di questo ente per tante ragioni voglio venire incontro a quella che potrebbe essere un'obiezione che mi si può muovere facilmente che è la difficoltà della pandemia che è la difficoltà di un ente dissestato ma questa capacità di vendita dei beni non c'è non si rinvengono negli atti delle ultime 5 annualità una capacità di vendita dei beni immobiliari dell'ente che possa sostenere una pari capacità di spesa e seppure oggi ci volessimo diciamo raccontarci che probabilmente si farà di tutto per poter vendere sia i beni in carico all'ostro che quelli in carico al comune tra l'altro c'è un piano di valorizzazione che dovremmo approfondire dovremmo verificare perché si parla di beni da valorizzare ma ci vorrebbe quantomeno anche una capacità strategica nella valorizzazione che ad oggi posso sbagliarmi ma io non verifico se non a grandi linee nel cosiddetto libro dei sogni c'è da verificarlo puntualmente anno per anno mi rendo conto che oggi è abbastanza complicato farlo in questa sede però saremo diciamo a verificare più in avanti quello che succederà ovviamente questi beni il patrimonio oggi è una questione vitale per un ente locale che è dissestato perché porterebbe diciamo sicuramente avvicinerebbe questa questa fase terminale della fase di liquidazione dell'Oslo che dopo cinque anni immagino che sia un tempo abbastanza congruo per poter definire anche la platea dei creditori visto che sono per la maggior parte benevent'anni per i professionisti imprese e tutti coloro che hanno avuto rapporti con con questo ente negli anni passati che potrebbero finalmente vedere ristoro anche se in quota parte delle proprie pretese creditorie ma al netto di questo è ovvio che cozza favolosamente l'ipotesi del piano assunzionale nella previsione dell'impegnare la nuova figura consigliere francese che non vedo del 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 giornalista del giornalista rispetto a quello che forse andrebbe ad essere come ha detto anche il collega De Lorenzo l'implementazione o di un ufficio di carattere tecnico o anche proprio della gestione del patrimonio comunale che forse bisognerebbe di un'unità operativa di di elevata e comprovata qualifica professionale per poter meglio poi specificare gli atti di gestione che pure dovrà fare l'ente locale e anche il piano di valorizzazione di questi beni e la butto lì a modi proposta come ha fatto precedentemente anche il consigliere Perifano per dare conto anche di quello che si dovrebbe su cui dovrebbe poggiare un piano di come dire di prospettiva strategica e politica noi abbiamo nel piano di valorizzazione immobiliare le ex scuole rurali che sono disseminate su tutti i percorsi naturalistici diciamo di paesaggio che dovremmo cominciare maggiormente a tutelare come è fatto anche in passato come anche aveva previsto di fare il vecchio PUC dico il vecchio perché naturalmente c'è aria di nuovo in città è ovvio che su queste scuole rurali sarebbe stato il caso di provare a realizzare delle operazioni di turismo eno gastronomico e di nuova frontiera ricettiva per le nostre colline beneventane in uno a quello che è la capacità di misurare l'innovazione del lavoro e della sostenibilità ambientale cosa che invece ad oggi manca completamente sotto il profilo specifico a questa amministrazione sostenibilità ambientale produzione di nuovi posti di lavoro mano tesa al terzo settore in merito all'associazionismo quello puro di volontariato che poi potrebbe fondersi nella logica appunto di questi plessi scolastici riqualificati a corredo delle attività produttive che insistono nelle vastre contrade della nostra città che pure contengono delle buone imprese sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei nostri prodotti agricoli e diciamo di natura vinicola che però naturalmente non è un elemento che viene preso a modello come invece è stato preso a modello in altre realtà che hanno fatto della loro diversità e della loro grande vastità sotto il profilo appunto della dimensione perché Benevento è 140 km2 non è soltanto un pezzo di città il centro storico ha al suo contorno una vastità di territorio che andrebbe messo in connessione con il resto della città e che poteva essere sviluppato un ragionamento di inclusione e di avvicinamento appunto con un turismo che guardava ai confini della città e ne faceva un punto di forza e cercava di proiettarsi in quell'altro filone del turismo che non è soltanto quello di carattere monumentale artistico intendo dire ma è quello di carattere enologico di carattere agricolo non vi nascondo che esistono delle realtà fantastiche dove addirittura si può andare a cogliere il frutto in mezzo all'orto e pagarlo lì seduta stante si poteva creare un discorso una connessione vera lavorando con le imprese che già esistono sul territorio e creare un circuito di nuovo lavoro ma a me sembra che il circuito di nuovo lavoro questa amministrazione non abbia certamente la visione strategica per poterli cogliere quindi questa è una proposta naturalmente che viene dal fatto di poter dire qualcosa in più rispetto a quello che non c'è il famoso libro dei sogni che il previsionale prende comunque di riferimento è un previsionale ci sono delle attenzioni da fare su quello che è previsto in termini di spese in termini di entrata non staremo a dire le solite cose sul fatto che appunto ci sono delle situazioni che poi di anni in anno andremo a rivedere perché vengono previste delle cifre seppur prudenziali che però più delle volte poi non si attestano come tali è ovvio che su un previsionale non si può dire altro si può fare un boccalupo naturalmente perché la città è di tutti e quindi ovviamente si spera anche che alcune di quelle cose possono andare a buon fine si vorrebbe un confronto maggiore quando una proposta viene fatta dall'opposizione non essere guardata in cagnesco ma magari cercare di contemplarla come talvolta accade in alcune commissioni e talvolta non accade in altre commissioni si sa come mai è evidente che sul piano urbanistico ci appestiamo a prendere cognizione delle linee guida io direi faccio solo una battuta ci avete messo tre anni i precedenti naturalmente non ce l'ho con chi è nuovo diciamo di questo consiglio e della giunta stessa hanno messo tre anni a fare delibere di giunta di indirizzo e quindi gli incarichi professionali esterni per la valutazione e la compilazione degli atti senza produrre però l'atto principale che era appunto la verifica in consiglio comunale innanzitutto di quello che c'è stato prima in precedenza perché il piano urbanistico comunale è del 2013 quindi non parliamo di un secolo fa parliamo di un'epoca fa certamente sono tra quelli che dice che le cose vanno migliorate e andava migliorato già nel 2016 per quanto mi interessava diciamo sottolinearlo anche all'epoca quando ero in consiglio comunale quindi sono dell'idea che vada fatto nel nuovo strumento urbanistico che si prenda atto che il lavoro della variante sicuramente fornirà degli elementi utili non tutto è stato perso non tutto sarà perso certo il tempo probabilmente sì che è l'unico elemento che non possiamo perdere ne è stato fatto un uso certamente non saggio da parte della vecchia amministrazione perché persi tre anni perché tre anni sono stati persi per tornare punto a capo vedremo da dove partiamo vedremo da dove partiremo non sarò sicuramente tra quelli che dirà che il punto precedente era il migliore degli strumenti urbanistici certo era quello più necessario da farsi perché avevamo un regolamento urbanistico addirittura del 1977 avete atteso il SIAD avete atteso il piano traffico avete atteso il piano del verde in ragione di questa variante che poi si trasformerà plausibilmente nel nuovo piano urbanistico comunale avete atteso troppo secondo me avete perso tempo nel frattempo avete lasciato che molti cittadini di Benevento avessero ancora aree fabbricabili senza poter edificare perché gli api gli atti di programmazione degli interventi erano triennali e voi siete andati avanti con l'api del 2013 per oltre sette anni in vigenza senza mai dire nulla sul fatto che probabilmente andava quantomeno stretta la maglia immaginando che siccome era un atto fatto da una precedente amministrazione si poteva andare avanti in ragione che c'era pandemia che c'era crisi dal punto di vista finanziario avete creato delle situazioni di difficoltà interpretativa sotto il profilo dell'esazione tributaria eppure arriveranno al nodo di questa amministrazione cosa posso dire vi auguro il migliore dei lavori perché questa è la mia città faremo di tutto per fare in modo che il vostro lavoro sia il lavoro migliore e quindi criticheremo laddove sarà possibile criticare e apprezzeremo laddove sarà possibile apprezzare ad oggi dal punto di vista dell'inquadramento strategico della pianificazione siete risultate tutt'oggi carenti prendiamo atto e ci rivediamo al consuntivo per cui annuncio il voto contrario del gruppo consigliare di città aperta grazie consigliere abbiamo altri interventi vuole intervenire il sindaco condivido la parte finale dell'intervento che ho scontato nel senso che rimuovendo spero le cause ostative di una mancanza di dialogo certamente portata avanti la mia maggioranza su problemi che sono fondamentali quello ad esempio il PUC in cui è stato fatto riferimento e voglio dire da subito che nessuna spesa su questo o magari si è bandaggiato qualcuno per la semplice ragione che la variante o quello che è stato speso in studio la variante sarà utilizzato sul piano del PUC o dopo quindi questa controversia non esiste non sul piano di una ulteriore polemica senza capo e portata io voglio ringraziare sia l'assessore al bilancio la presidente della commissione tutti i grandi quelli che hanno colorato l'assessore un bilancio che voglio ricordare perché molti l'hanno dimenticato che è un bilancio che proprio ieri la sottosegretaria Castelli ha portato all'attenzione dell'Anci nazionale per dire di inviare ulteriormente al 31 di luglio per quale ragione perché la maggiorità degli italiani non sono stati in grado di fare i bilanci sia quelli che sono ascritti a nuove normative a seguito del nuovo componimento dell'amministrazione comunale sia perché oggettivamente sono difficoltà se si pensa e non voglio dire all'opposizione che il comune di Milano oggi in grande difficoltà e invece precedentemente non lo era se si pensa che Napoli è afflitta da questa forma di prescrizione per cui viene soltanto tutelata dal governo nazionale ma questo non capita per i piccoli comuni o la polemica per i medi comuni io faccio ricorrentamente all'interno dell'Anci la stessa cosa per Roma è ovvio che se ai grandi comuni arrivano leggi speciali evidentemente il dissesto viene evitato ma soltanto per questo ma la fallace e l'operatività rimane in piedi come si legge alle cronache basta vedere in quello che capita quotidianamente all'alta Napoletano perché questo lo voglio dire libro di sogni la strategia io a differenza di altri che erano partiti con me con uguali aspirazioni di diventare probabilmente qualcuno all'interno della società politica italiana io ho fatto parte anche del governo tutti i governi annunciano all'inizio grandi programmi e quindi si propongono e realizzano alleanze e parentele politiche in virtù del programma che vengono in piedi mi ricordo qui era un programmone di 500 o 1000 pagine che poi stentatamente con questo in in un'opologazione sul piano di trasposizione la topografia ideale è quella reale per quale ragione perché i programmi partono con convincimenti con dichiarazioni di intenti con la buona volontà dopodiché purtroppo impattano e non riescono a planare a vivare le difficoltà voglio ricordare l'opposizione qual è la difficoltà che noi ci vediamo da due anni con una storia purtroppo drammatica che è quella di Colt che ha fatto impennare l'inflazione la sanifrazione e quindi come tale c'è una forma di resilienza la resilienza economica e sociale e tutto questo crea problemi difficoltà soprattutto a chi nel discendere dei rami istituzionali come i comuni hanno un frontesquizio che si collega alle proprie comunità e quest'anno voglio dire che a differenza di quando era capitato negli anni passati in cui il governo nazionale ha dato qualcosa qualcosa più di qualcosa erano stati ristorati noi come stati ristorati anche i commercianti dunque l'attività quest'anno si è dedicato di fare questo per quale ragione perché il motivo costringente è la difficoltà oggettiva perché è intervuta anche la guerra voglio ricordare che 9 mesi fa ho fatto il mio programma non c'è la guerra il covid sembra essere estinto peraltro dopo l'estate oggi invece scopriamo che questo avvertisce il benevento che a vaccinarsi ulteriormente chi ha la voglia di fare ha avuto gli otagenari quanti altri purtroppo questi due elementi combinati registrano questa difficoltà oggettiva voglio dire a chi è rimasto ma come dire dimestichezza o una vota dimestichezza parlamentare c'è un termine che viene lanciato sul piano diciamo del rapporto tra governo e maggioranza scostamento di bilancio cosa significa che tu determini una condizione poi non riesci a portarla avanti perché la misura che tu avevi immaginato non si compie e non realizzi il vuoto che c'era sul piano finanziario e devi stare scostando di bilancio cosa significa scostare di bilancio significa che fai pesare per nuove generazioni è quello che comincia a vivere oggi una forma di debito che accumuli per nuove generazioni e l'Italia sta facendo scostamenti in bilancio a ripetizione per fortuna c'è Draghi che essendo stato governatore di Banca Italia e governatore della BCE ogni tanto pronuncia un qualche dinego altrimenti anche ora parlo le forze politiche che si vedrà nel bilancio da approvare se si riesce a approvare se le forze in cambio riesce a trovare sinergia e qualità sinergetica per affrontare queste situazioni se avremo un spostamento di bilancio perché non si ci fa se non lo fa il governo nazionale vorrei capire come riesce a farlo un governo locale che non ha la impostazione diciamo per quanto riguarda il target che dovrebbe essere il modo per quanto riguarda le situazioni e se anche per quanto riguarda nonostante diciamo siamo cresciuti a questo punto di vista in quotazioni se il governo nazionale non riesce a determinare una condizione di fiscalità per cui tutti i cittadini pagano i tassi immaginassi come fanno comuni piccoli o meno grandi come anche il nostro a utilizzare tutta la fonte elettuale che deriva da quali quali in maniera ingiusta non pagano quello che dovrebbero pagare giustamente perché tocca al cittadino competere con la propria fiscalità affondo alcuni argomenti diciamo in maniera molto più modesta il commercio il grande commercio voglio ricordare agli amici della sinistra che chi realizzò questo non sono stato io ero nel governo uguale ma feci una serie di difficoltà fu il ministro della sinistra che era avversario nell'epoca quindi questa è la legge se uno fa la richiesta non è che puoi dire di no e quindi come tra nonostante il piano se c'è questo c'è ma c'è un altro aspetto c'è una cosiddetta rilevata recentemente il suo medico attorno l'apocalisse del commercio che significa che chiude una negozio ogni dieci 90.000 negli ultimi tempi nell'ultime diciamo determinazioni in cui purtroppo l'anegrità impatta non soltanto su corsi ma in tutti i corsi basta vedere l'economia locale a chi ne ha voglia magari chiederò al prossimo quando sarà fatto il nuovo giornalista che verrà di fare questo e di darlo in dono a tutti quanti i consiglieri del comune per vedere per vedere quello che capita chiudono tanti i tozzi basta che voi girate per rendervi con di quale è una struttura oggi diciamo clamorosamente insoddisfatta per quando riguarda l'economia del vicolo per quando riguarda l'economia che regola le condotte rapporto e il rapporto diciamo ma anche molto forte e molto stringente tant'è vero che infodizzo anche questa era la mia unica intromissione del PUC che andrà a essere fatto la mia idea è quella sempre quella di Boerdi Alti quella per dire che la comunità deve vivere in una forma di centralità non soltanto centro per via come visto la città di Benevento il centro la parte bassa no tutti sono centro legando al criterio diciamo architettonico dell'architettura diciamo costruttiva che è quella della distanza a 15 minuti dove questo sì può felicitare o determinare condizioni di una ripresa per quanto riguarda le difficoltà che albergano nell'economia che nel tempo era stata l'Italia oggi invece piuttosto asfittica tra l'altro voglio ricordare che queste economie di natura commerciale e mercantile intanto hanno funzioni quando c'era un dato che come dire coniugava una forma di filiare familiare quando invece il figlio grazie ai servizi del papà fa strade diverse si rompe tratto diciamo la filiera che era stata per tanti anni a registrare questa forma di capacità attrattiva anche rispetto a tante altre situazioni e tanti altri aspetti quindi per dire insomma che su questo non mi pare che bisogna fare più di tanto fare la come dire la situazione diciamo particolare a questo punto di vista facciamo tanto è vero che siamo gli unici nei giorni scorsi grazie anche all'assessore Ambrosono al presidente della commissione Alboino noi abbiamo avuto un incontro con i dirigenti della regione campana e con tutti quanti l'organizzazione non c'è la natura del sindacato del commercio e dell'artigianato per quando ti ha distretto di natura commerciale e siamo i primi in campagna di arrabbiato questo tipo di procedura e saremo i primi a definire questo di procedura arrivando al delta finale per quello che costruirà un'economia di ripresa purtroppo tra le tante enormi difficoltà che vivono e che non vengono scansate da parte di chi diciamo si trova all'interno di questo tipo di realtà quindi alcune cose molto semplici sulla cabina di energia non abbiamo smesso di fare cabina di energia tanto è vero se vedete anche in questi giorni per chi ha voluto leggere o fatto a me di non leggere sui giornali quotidiani che l'operazione continua la stessa recupero prima dell'orsolina e poi successivamente come in questi giorni per quando attiene il finanziamento di 5 milioni per Battistine Gino Rione che vitalizza il Rione la docente del teatro romano questo arriva dal modo con il quale continuamente l'università noi e quanti altri collaboriamo in maniera estensiva recuperando questo che è stato diciamo l'elemento vitale che ci ha riconosciuto lo stesso ministro dell'infrastruttura donato a Benevento e ha detto ma voi dovreste fare utilizzare l'università si è alzato i vettori che non c'erano per le mie forture e ha detto che già siamo realizzando questa condizione che è una condizione che li tengo felice peraltro le due università che vengono utilizzate per il modo migliore così come altri perché altre strutture i commercianti gli industriali insomma nel modo che si ritiene più criteriali che può arrivare assolutamente in questi criteri non è stata finanzata la villa di patria a parte di fatto la riusura avviata dalla provincia e noi abbiamo collaborato in questo caso non hanno fatto il comune abbiamo partecipato però insomma se vogliamo davvero realizzare condizioni di compatibilità tra le nostre incompatibilità insomma vi voglio ricordare a voi che stavate in maggioranza prima e se la rivedo ma la villa dei papi da anni e anni era chiusa io l'ho riaperta cioè spingere la provincia grazie al presidente di Maria perché non c'erano diciamo economie necessarie per riaprire è stata riaperta oggi certo l'ho realizzata in maniera diversa ma tornare a quello che c'era prima secondo me non ha senso per la semplice ragione che se aveva senso continuare vuol dire che se stesso e si è andato in fallimento qualcosa non ha funzionato ora riprendere in quota le stesse cose che avitavano prima a fallimento francamente dico di no quindi vedremo utilizzare il modo migliore quindi a questo punto di vista non mi pare che sia una soluzione quella che viene decantata o accampata che presta il fianco ad una qualche mia procedura di attenzione PNR noi abbiamo superato più di 100 milioni voglio ricordare i consiglieri comunali e la città di Benaventro quindi anziché dire abbiamo verso l'idea di papi 800.000 euro si dimentichi fin anche il campanile abbiamo recuperato 800.000 euro 900.000 euro fin anche il campanile che è del Comune di Benaventro mentre invece la chiesa una partita del Comune di Benaventro una partita del Ministero degli Interni di Santa Sofia quindi fin anche voi l'abbiamo recuperata e dice l'indirizzo generale sono d'accordo con voi dovreste dire io non partecipo al governo voi invece le forze vado in posizione ma si rimangiano a voi dito riposto perché io ho fatto una procedura anche proposta a lancio la mia sollecitazione che occorreva per fare una strategia di impiego di risorse utili anziché fare come si fa per cui noi siamo sentiti a rincorrere occupando ancora eccetera bisogna fare che veniva una cabina di regia nazionale e diceva voi a Benevento Consiglio Comunale che cosa pensate di realizzare per la vostra città di qua nei prossimi 15-20 anni avremo risposto dettagliando le nostre proposte i nostri bisogni le nostre facoltà delle quali siamo capaci e esprimano il meglio possibile ma invece questo non è stato fatto ma la Regione secondo me ha mai convocato una o qualche riunione a questo punto di vista mai c'è stata questa collegialità e nella Regione partecipate anche voi perché i rappresentanti sono i vostri non è che sono i nostri quindi su questo mi pare una risparmiata di valutazione se volete fare a debiti fa dal Governo nazionale io ho proposto questo di fatto perché? perché questo incamina avanti su una cosa per la quale voi capisco che siete consiglieri benevento ma non mi preoccupate i piccoli consigli comunali della provincia o di altre province ci sono realtà nostra provincia in cui non sono in grado di far nulla di produrre l'onda se fosse stato fatto questo lavoro anche a livello provinciale con gli altri amministrazioni anche i piccoli comuni da Pieroia a Buonalbergo a quanto altro avrebbero un tante l'onda di consistenza ed un fervore iniziative che oggi francamente non ce l'hanno perché non hanno neppure la possibilità e l'opportunità di attingere a qualche fonte e a qualche personale noi diamo una mano a quelli che è possibile ci sono messi a disposizione a quelli che è possibile ringraziando anche i miei collaboratori per quello che viene fatto da questo punto di vista quindi ritengo davvero che sia diciamo una formula abbastanza ingiusta per quanto riguarda i lievi che sono emersi altra cosa voglio dire l'istituzione chi ha parlato di istituzioni ho sentito come l'istituzione comune dovrebbe quasi sostituirsi all'economia agricola della città le istituzioni hanno un mondo in mondo partecipano solidarizzano ad una mano ma non si sostituiscono non abbiamo l'economia poi bisogna vedere la qualità del vino com'è perché tu vuoi fare la filiera ma se la qualità del vino in città di Penente è peggiore di quelle altre parti non lo so tutti stiamo riscoprendo questo elemento essenziale e fondamentale ma non è che arriva all'improvviso ma arriva all'improvviso perché hai questa cosa il turismo facciamo la foto del turismo badate tutti mi dicevano quando sono arrivato io stesso pensavo così è il turismo reggioso di Pietrecina noi inauguremo tra poco anche una strada spero che questo possa informare un minimo di presenza di turismo povero perché quello è molto povero che porta ogni anno a Pietrecina 500.000 persone ma ci fosse uno che si ferma per venti e prenda un caffè quindi noi su questo non abbiamo assolutamente nulla di questo tipo di turismo e peraltro il turismo parte il fatto che il turismo nella reddibilità basta vedere Firenze che aumenta appena il 4-5% del PIL però del turismo parlo di Firenze anche Roma al stesso modo ma il turismo è un dato che è complementare non è un caso che è ritenuto una forma diciamo terziario e non primario e secondario che primario e secondario è dall'agricoltura ad altro tipo di prodotti e quindi noi possiamo certamente addensare e determinare ma è complicato perché dove farà anche il grande centro di congressi ma dopo di che non esiste un simono per il covid non si muono un simono per le semplici ragioni che oggi c'è questa difficoltà se è vero quello è vero e voglio ricordare insomma che quando ho detto prima non per chiamare in maniera diciamo parocca la circostanza del duellare come devono fare tutti i colori quali governano l'economia europea l'economia dei loro paesi rispetto al covid rispetto a tutto il resto e alla guerra che c'è la mancanza di grano sapete che l'anestero dovuto mettere in cassa integrazione fare i contratti di solidà e che neppure io sapevo che per fare la pizza che si esporta da Benevento manca l'olio di girasole che esiste in Ucraina e quindi per questo caso hanno messo in difficoltà per cui l'economia sto scompensata da questo punto di vista non si può fare i vedi a quello che c'era precedente perché cambiare un mondo è come se uno fosse arrivato il terremoto potete immaginare la casa io ho vissuto il terremoto a me è caduta la casa al mio paese e non c'era più la casa quello che avevamo non c'era più bisogna inventarsi qualcosa di diverso e questo è lo sforzo produttivo a mettere in campo tutti i governi evidentemente dopodiché al segreto sulla scia nella stella polare che determineranno il governo e a me e forse i governi nazionali su tutto un po' di livello europeo forse non è che possiamo fare se non ci fosse stata questa diseconomia di scala ma secondo voi l'Europa avrebbe dato che è stata sempre a Cigna 90 miliardi all'Italia e soprattutto al mezzogiorno l'Italia per quanto riguarda il modo per essere solidale quando l'Italia è stata sempre l'Europa è stata sempre considerata avara con gli italiani e con l'Italia stessa assolutamente no c'è una crisi che è drammatica gli economisti parlano di questa forma di un globalismo di natura amico e sempre più quando sento parlare la prova e gli altri che dicono si ritorna alla cortina del ferro si nei prodotti si tenteranno andare fuori e anche i nostri prodotti che si arrabbiate negli ultimi tempi anche un'economia di scala che riguardava l'esportazione di molti campani e anche quindi i nostri principi verso la Russia è finito questo tipo di modi quindi creerà una nuova densità di difficoltà economiche di impresa questo tipo di imprese che esiste anche da noi bisognerà inventarsi cose diverse come fare come non fare questo francamente lo so ma io non posso sostituirmi alla capacità all'intelligenza di quello di base del mondo agricolato io ne ho parlato all'assemblea molto bella che mi hanno invitato dei giovani della condirettiva principalmente dell'intera campagna a pensare e a riflettere su queste cose perché è un mondo che è cambiato bisogna avventurarsi in un mondo diverso noi ragioniamo come se fosse 5 mesi fa sono 50 anni di luci fa non esiste più questa proiezione che ipoteca quello che sarà perché non ci sono più le modalità e se il governo ogni giorno con il consenso di affare realistica ha iniziato ad entrare anche in crisi a dare 3 miliardi perché le famiglie non ce la fanno e noi ne abbiamo più come abbiamo avuto gli anni scorsi che davo una mano a chi aveva in complicità con noi una difficoltà non ci hanno dato più i soldi non ce li posso dare non ce li hanno poi facciamo l'incontro a questo però 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 io voglio dare atto a tutti quelli che hanno lavorato con noi che abbiamo avuto in pochi comuni italiani 6 milioni e mezzo per quanto riguarda i tratti che riguardano solidarietà sociale evidenzioni di sequaglianze sia di quelli di natura solidarie e esistenziale sia quelle di natura sociale quindi per dire che mi ha lavorato molto molto bene ringrazio siamo delle comuni che hanno avuto 15 milioni per quanto riguarda la scuola da parte ricostruire quindi far finta di ignorare la gente vede inutile che fate polemica su questo se volete contribuire a dire facciamo il terragotore tutti quanti assieme benissimo se volete dire viviamo queste indicazioni benissimo ascoltare ma se fate polemica sul nullo francamente diventa difficile di generare queste cose diventano diciamo una cosa non a partire dal confronto democratico non doveva fare una cosa diversa anche a strabotti in tante circostanze ma insomma con un'elaborazione con un filo rosso che tiene in piedi una serie di situazioni qua non ci sono fili rossi che come dire possono determinare questo tipo di oggettiva conseguenza per la quale in tante situazioni si decide assieme ho visto altri comuni sull'acqua hanno deciso assieme da noi invece sono decise se c'è questo dato che qua la cosa è mistralente e non voglio dire con molta franchezza qua non c'è ideologia tra sinistra e destra che scomparsa c'è solamente la ideologia contro di me pregato al Paterno se veniamo a Paterno va di mezzo fate prima anziché insomma trovare un modo diverso cioè pregato il Paterno Mastella sietevate in i suoi anni quindi fate prima l'ideologia del dire andiamo a pregare perché Mastella venga fuori ma l'ideologia è contro di me è contro con la città perché faccio il sindaco e forse lo faccio anche per se mi esempio di quello che si immaginavano mi dispiace per voi magari anche qualche amico all'interno mio pensava di sostituirmi prima quindi voglio dire su questo faccia la pari con chi si espone a questo diciamo sul tipo di teatro pubblico che verrà successivamente teatro pubblico della città evidentemente sul piano del dato democratico quindi voglio dire noi abbiamo fatto una cosa facendo difficoltà come si avviene a tutti i governi centrodestra e centrosinistra i tagli lineari si diceva questo è un taglio lineare mi rendo conto è ovvio che noi vorremmo fare più verde più tante altre cose in una città che ha una dimensione di chilometri quadrati più di Napoli 130 chilometri quadrati Napoli 119 quindi con una pesatura per quanto ci riguarda la soddisfazione dei bisogni dei cittadini che hanno bisogno costituzionale anche una casa di avere l'acqua la luce e il gas ma è complicato avere io ho trovato tutti questi anni io ho trovato la città non ci stanno neppure i numeri civici e parlate con me parlate di queste cose altro che la città di fare una città senza numeri civici 10.000 persone 15.000 famiglie senza numeri civici come vi azzardate a dire questo volete collaborare vediamo di eliminare i numeri civici vogliamo dare i nomi i numeri civici in maniera di lessa per le strade partecipate siamo disponibili su questo ma l'idea insomma che la città fosse meglio prima di quello che è francamente no insomma c'era una cosa che oggi leggo sui giornali meno anche i medical del fatti no io si dà questa questa cosa incredibile e singolare di un gruppo che occupa infatti no che è una cosa diciamo legata alla comunità in cui andavano i ragazzi viene occupato benissimo rimane per 20-30 anni non si fa nulla fino anche per fare resistenza nonostante ci fosse più nulla niente attività educativa ricreativa niente altro e dopo tutto questo ci sono amicchiamenti tante cose abbiamo evitato il teatro comunale la stessa cosa che apriremo a settembre venendo il ministro del PD dei beni culturali quindi voglio dire se volete lavorare in sintonia a fabbricare un mondo diverso nella nostra città siamo disponibili non è che siamo disponibili che interessio io cioè non ho più interesse non mi interessa più la clientela e il resto pensate che il giornalista torno qua al giornalista per le voto se abbiate ma io mica posso pur essendo giornalista e mi scrivo io le cose e poi andate i comunicati però posso dire uno che apprezzo è bravo molto bravo che ci sta e più di volta c'è rete e qua non ci sta noi facciamo attività anche di pomeriggio e lui fa giustamente dell'attività termina le due e va via posso avere un altro può avere il mal di testa spesso l'ho avuto ma che il mal di testa aveva problemi può essere un comune voi dovete riguardare il comune come tarda perché io ci resto fino a quando ci resto può restare un altro e riguardare l'altro qualcuno di voi spero di no evidentemente di quelli che si adorciano in opposizione quello mi auguro di no anche per come vi comportate o cambiate linea di atteggiamento di moralità io ho fatto tante volte la maggioranza l'opposizione ma mai ho visto una cosa in questa idea l'ideologia contro una persona contro i me già ho visto in gamma ma oggi continuo a vedere è finito è finito quel tempo là non c'è più vogliamo pensare cose completamente diverse perché la situazione è molto molto peggiorata e gli indirettori economici dicono che sarà ancora peggiore per il coide che avanzerà in quelli di settembre-ottobre e per la guerra che continua sarà un'esasperazione le famiglie partiranno pensiamo a questo e pensate che rispetto a questo la risposta è sì o la deve dal governo voi state dal governo non io chiedete i vostri dirigenti i vostri rappresentanti parlamentari chiedetelo che cosa fanno ma anche il governo fa fatica non è un caso che non ci sono state mai riunioni così vertigiosi in questo periodo che ha durato l'Europa e ogni volta a tentare di trovare una risposta è il gas è l'economia che stenta e fa difficoltà ad andare avanti è il cap gas che non si trova nelle modalità comunitariamente intese a parte degli altri stati questa è la situazione con questo il crodo si salta questa è la situazione questa è la difficoltà e pensate all'interno di questo anziché dire benissimo siete stati in grado non state queste difficoltà con tanti altri comuni che non riescono a fare pure il bilancio infatti il bilancio ostentato è che francamente non è che voglio Rodi e come io faccio invece Rodi all'assessore 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 affatto non viene corrisposto il programma è diecimila anni luce fa non esiste più non ci sono eppure i sogni abbiamo contratto anche i sogni sono contratte le solidarietà tantaveremo ci siamo tutti quanti linguisticamente ritirati noi stessi il prima vale sugli altri prima l'Europa negli Stati Uniti prima il nord e poi il resto qui andiamo in difficoltà allora su questa leggeremo il tutto se volete si faccia discussioni molto serene quando volete e andiamo avanti con proposte si è anche proposta alternativa o bendativa per l'amore di Dio non è che nessuno diciamo viene in maniera diciamo malmessa dove ci sono registrazioni di proposte in opposizione che vengono fatte proprio dalla maggioranza strumentano se è tipico di una democrazia ma noi non vale questo è soltanto questa altestità contro l'amministrazione contro i me basta ormai ci sto quindi è inutile che continuate a batteria con me ripeto pregato a batteria se i paesi mi elimini va bene allora vedrete sul piano democratico ma se è andata avanti così non dico mai come se è andata alla lezione se io sono fuori quindi farò un altro testamentare diciamo meglio che chiunque altro meglio che voi per come vi comportate lo dico con molta siettezza comunque questo è quindi io applaudo e ringrazio anche gli intervenuti tutti che hanno detto cose molto molto intelligenti sul digitale non so se magari che ne ho parlato anche qua siamo molto molto in avanti ci abbiamo fatto cose incredibili e l'ultimo voglio dire quella storia che viene sempre diciamo richiamata per quanto riguarda il vecchio seminario e voglio dire quella è a chi di voi io non sono giurista ma quello non appartiene al comune quella è del demanio che ne fa che cacchio vuole tu puoi dire vedete come noi abbiamo fatto di eliminare i inconvenienti che ci sono quella è del demanio il quale dire statualmente in questa condizione di difficoltà del nostro paese di risparmiare e sicuramente c'era una forma diciamo decentrata in cui pagavano soldi non risparmi un milione all'anno non un milione all'anno che diceva sono dieci milioni è qualcosa è qualcosina rispetto all'economia diciamo da parte ora rispetto a questo potevo dire non assolutamente sono investimenti per la città perché sarà anche qualche piccola imprese che lavorerà sarà una cosa che avverrà successivamente perché sarà salvare per il cittadino là dentro ci sono i posti non è che pur ora abbiamo visto che insomma ci è stato dopodiché bisognerà evidentemente lavorare col piano traffico non ho parlato con K perché evidentemente si tratta di trovare soldi necessari che poi anche la difficoltà qual è stata che tutti quanti i compagni sono stati taglieggiati dal fatto che bisognava fare economia lineare e tali lineari quindi quello che immaginavo non si riesce neanche a fare questa è la verità quindi le risorse quelle sono o li metteranno a parte o dall'alto coperta di se essere corta e in questo essere corta si è riusciti perlomeno a determinare a differenza di altri di altri con segno politico di resta nostra per essere a sinistra si è riusciti a fare cose che da noi non abbiamo fatto e non sono riusciti a fare di questo evidentemente non tanto io che della commerciale dei numeri faccio fatica a leggerli se non a tentare di capirli dal punto di vista più geometrico ma che non sia nell'algebra o nell'alitmetico quindi su questo mi pare che l'impostazione sia abbastanza chiara vedremo quello che verrà il governo vedremo questa è la situazione non siamo in grado di corrispondere perché avevano fatto così perché abbiamo recuperato alcune persone all'interno della struttura di natura diciamo dell'urbanistico che sono ingegneri che abbiamo preso dal PNR e siamo riusciti a recuperare però facciamo tutto quello che è possibile utilizzando al meglio tutto come abbiamo fatto con il PNR perché arriveranno cose sta arrivando cose quindi bisogna fare il meglio così e trovarci attrezzati nel modo migliore possibile questa è la verità ma ho trovato cose qua in compiuti il Parco Verde da 150 anni e noi lo riapriamo e fate polemica con me non voglio fare polemica con voi ma tutto questo era tutto spento era tutto opaco ho trovato la città non illuminata e oggi illuminata perché non ricordate queste cose territori abbandonati completamente oggi perlomeno facciamo la città è più pulita l'Asia funziona l'abbiamo trovato devastata con un migliore mezzo di perdite e oggi è sul piano lo stato del pareggio di bilancio questa è la situazione allora voi dite ma alcuni ci stavano prima benissimo scansiamo diceva prima non mi interessa non ci ho mai stato alcuni cittadini ho ricordato 25 anni non ho mai mai stato nella città di Benete sono stato sempre fuori però voglio dire se volete collaborare collaboriamo ci vedete tutto poi dopo di vi distinguete votate contro non mi interessa ma seate l'accordo è ben accorto ma se fate questo la polemica con me ogni volta è prestigioso ognuno di voi ho visto destra e sinistra assieme qua l'unica parte d'Italia del mondo in cui destra e sinistra assieme manco Trump e i democratici degli Stati Uniti è così cioè solamente qua questa ossessione per Mastella basta questa ossessione per Mastella bene ma Mastella fa qualcosa e lo lascia perché lo lasciamo anche in pronta si parla in pronta ci sa pure la marmosa a me fa piacere se voglio mettere il capo come avviene in Inghilterra il capo della maggioranza e con l'opposizione mettono assieme perché là il capo dell'opposizione è considerato uguale quasi al premier è benissimo ma se invece il capo dell'opposizione o chi fa l'opposizione si destraisce questa polemica oziosa c'è l'impatia contro di me beh lì la piglio altro cioè sono una storia d'Italia ma non c'è voglio dire sono felicissimi di fare il sindaco la città di Pemegno non voglio fare altre cose voglio fare più nulla tranne questo fino a quando ripeto il fratello e spero che la maggioranza preghi per questo che chiedo dai cattolici mi darà la forza di andare avanti il più possibile grazie grazie sindaco allora se non ci sono possiamo alla votazione segretario consiglieri si vota Mastella Clemente Margeri Italo si Capuano Antonio Capuano Delipsis Luga si Delongis Raffaele Lorenzo Giovanni il contrario Mercurio Adele si Estasio Rossa assente Arese Francesco Giuseppe favorevole Fioretti Floriana no Francese Mara si Giorgione Gerardo si Greco Alboino favorevole non c'è no no si alza la voce un po' di voce Greco favorevole ok Guerra Rosario favorevole Cannelli Loredana favorevole Lauro Vincenzo favorevole Martinetti Alfredo si Megna Giovanna no Miceli Angelo contrario Mignone Maria Carmela favorevole Moretti Angelo assente Alladino Marcello si Anunzio Umberto si Parente Renato si Perifano Luigi Diego no Petrone Luisa si Piccarello Antonio Piccaluga Luigi Piccaluga Luigi Assente Scarinzi Luigi si Sguera Vincenzo no Sguera C'è no c'è no il voto Sguera C'è no il voto no il voto Tomasello favorevole Tomasello favorevole Particchio Maria Letizia no 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 Zanone Giovanni favorevole 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 Capuano chiamiamo Capuano Antonio non c'è va bene uno dove sta io non lo vedo qua lo vedo ma non va bene uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci quattro dodici tredici quattro quattro sedici sette 21 favorevoli contrari uno due tre quattro cinque sei sette 21 favorevoli e sette contrari si deve fare l'immediata eseguibilità il punto è approvato votiamo l'immediata eseguibilità come sopra approvato il consiglio termina qui ricordo ai capi gruppo di fermarsi l'aperitivo lo paga Micheli grazie arrivederci segretario 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 eccomi segretario senato Antonio è finito il consiglio non mi fa votare dimettiti dimettiti capuano ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti